conversazione a cui sono molto felice di prendere parte, di partecipare, perché mi dà il modo di ritornare attraverso un'angolatura però innovativa e originale che è quella offerta da Pier Giorgio Donatelli in questo bel libro, molto articolato, molto denso e anche con una sua complessità, sebbene restituita con uno stile scorrevole, uno stile chiaro, godibile, non soltanto quindi da un pubblico, come dire, specialistico, ma anche da un pubblico colto e interessato a questi temi, sebbene non da un'angolatura, un punto di vista strettamente specialistico. E dicevo, mi dà modo allora questa conversazione di ritornare su temi importanti, molto rilevanti, che Pier Giorgio ripercorre nel suo volume alla luce però di una prospettiva e di una angolatura, ripeto, che ho trovato molto innovativa e molto originale. Quindi la prospettiva generale che mi è sembrato di cogliere, naturalmente l'autore potrà confermare o smentire questa mia chiave di lettura generale, a cui accenderò solo brevemente per poi soffermarmi su alcuni aspetti specifici relativi alla parte centrale del volume e quindi ai capitoli due, tre, quattro e cinque. Naturalmente soffermandomi a volo d'uccello su quelli che mi sono veramente, come dire, su quegli snodi argomentativi che mi hanno colpita maggiormente per il loro carattere appunto di innovatività e di originalità. Ma l'idea generale che è un pochino, che sorregge l'articolazione di questo volume, mi sembra quella ripadita più volte da Pier Giorgio Donatelli nelle pagine appunto della filosofia e la vita etica, cioè di una sottolineatura della importanza, della centralità dell'etica nelle nostre società. Questo mi sembra un po' la linea, il filo conduttore, la linea guida di questo lavoro. Perché, insomma, domandandosi che cosa è l'etica, ponendo questa domanda, come dire, essenziale e rispondendo con una articolazione, cioè in realtà con un dettaglio di risposte possibili, perché l'etica è molte cose nella, come dire, prospettiva dell'autore. Sicuramente una disciplina filosofica, sicuramente, come dire, una branca della filosofia di cui si può tracciare una storia appunto dell'etica che fa riferimento e attinge in modo anche importante alla tradizione filosofica. Poi una tradizione culturale europea e infine però un aspetto viene sottolineato e rimarcato da Donatelli con, diciamo, giusta forza, e cioè il carattere che l'etica assume di ricerca teorica. Perché mi sembra importante questo modo di intendere l'etica come ricerca teorica? Mi sembra importante e anche innovativo perché apre l'etica, per così dire, ha la possibilità di utilizzare strumenti che non sono soltanto strumenti tecnici di tipo filosofico, ma sono certamente strumenti che provengono anche dalle altre aree delle discipline umanistiche, ma anche strumenti che fanno riferimento alle discipline scientifiche e sperimentali. E allora in questo senso l'etica come ricerca teorica include al suo interno e questa inclusione però è anche ciò che le restituisce un ruolo di centralità, include al suo interno, non so, le spiegazioni evoluzionistiche della morale che secondo Pier Giorgio costituiscono un campo di ricerca di straordinario interesse, ma include anche la psicologia sperimentale, lo studio scientifico della mente e quelle linee di ricerca che investono, che ci dicono i modi naturali del pensare e anche del pensare sui temi etici. Insomma, in questa direzione la ricerca etica è collocata certamente dentro, si colloca certamente dentro la tradizione filosofica, certamente in correlazione, come dicevamo, con il campo ampio delle discipline umanistiche, ma naturalmente anche in una correlazione feconda con le discipline scientifiche sperimentali. Per cui veramente possiamo dire, nella prospettiva tracciata da Pier Giorgio, possiamo dire che quella separazione, quella frattura, insomma la famosa frattura tra, come dire, saperi umanistici e saperi scientifici, quella di cui ci parlava Charles Snow, insomma nel suo volume del 59, le due culture e la rivoluzione scientifica, quella frattura tra le due culture, quella dicotomia tra le due culture, possiamo dire, di potercela lasciare, per così dire, alle spalle. E però nel superamento di questa frattura ciò che mi pare rilevante è questa posizione di centralità che l'etica, nella prospettiva tracciata da Pier Giorgio, assume. Un altro aspetto, diciamo, rilevante di questa linea generale è anche, per così dire, il duplice profilo dell'etica che prende corpo, forma, nelle pagine di questo volume. E questa duplicità è quella per cui l'etica si articola nella idea condivisibile di Pier Giorgio, certamente come abbiamo visto, come ricerca teorica, ma anche come forma di vita. È chiaro che nel richiamo alla nozione di forma di vita viene immediato il rimando alla tradizione wittgensteiniana, alla linea del secondo Wittgenstein e alla critica che Wittgenstein conduce nei confronti di quelle concezioni, come dire, della filosofia morale, della riflessione morale, che si concentrano sul tema della regola. A questo proposito è facile ricordare, è immediato per così dire, ricordare l'immagine wittgensteiniana della centralità rispetto a quelle teorie morali che si centralizzano intorno alla questione della regola come lastre di ghiaccio. Cioè l'idea della regola è importante, però è un modo di procedere come su una lastra di ghiaccio in cui non sta l'attrito. Questo naturalmente è ciò che viene immediatamente da pensare quando riflettiamo su questo secondo profilo dell'etica come forma di vita, ma mi sembra che proprio nelle prime pagine del volume di Pier Giorgio, Pier Giorgio riconduca questa, come dire, questa possibilità di concepire l'etica in modo ampio. Quindi la possibilità di concepire il territorio dell'etica come un territorio più ampio rispetto, come dire, a quelle concezioni unificate della morale sulle quali ritornerò tra qualche istante. Mi pare che Pier Giorgio riconduca questa possibilità al punto di origine, alla genesi teorica che mi pare possa essere individuata nella idea di mille, cioè nella idea di mille di una concezione appunto allargata della morale che descrive ambiti differenti di vita. E anche nella concezione milliana della libertà individuale, della morale personale in cui si esplica, si estrinseca, si dispiega, una libertà individuale dove fioriscono molti modelli di vita personale nella cui traccia dunque possiamo dire che questo ambito diventa l'ambito del dare forma alla propria vita, quindi della forma di vita a cui si dà forma in modo personale e creativo. In questa direzione Pier Giorgio introduce poi un'altra idea molto rilevante, molto importante, qui siamo appunto nel secondo capitolo, e cioè questa idea di progetto umanistico che prende corpo certamente nella morale moderna, questo progetto umanistico, la morale dunque come progetto umanistico di dare forma alla propria vita, alla ricerca della felicità, alla ricerca della realizzazione, nel contesto, in un contesto di, come possiamo dire, segnato da reciprocità ed eguaglianza. Molto interessante ho trovato poi questa, diciamo, riproposizione di questa idea che, come dire, prende corpo all'interno della morale moderna nel novecento attraverso il riferimento a Dewey. Dewey è un autore che frequentemente ritorna nel volume di Donatelli e ho trovato, diciamo, interessante, come dire, questo ritorno a Dewey per certi versi. Perché appunto con Dewey nel novecento, insomma, si accredita questo progetto umanistico che poi Pier Giorgio dice sostiene essere, la morale intesa come progetto umanistico necessariamente di segno normativo, come sostiene appunto nello snodo, negli snodi dei capitoli successivi. Però con Dewey questa idea, questo progetto umanistico della morale si situa in un tipo di società, diciamo così, che ricerca certamente libertà ed eguaglianza, dove il collante diuviano di questo tipo di progetto è rappresentato da un tema molto rilevante anche nel dibattito attuale, ritengo, e cioè il tema della fiducia e della cooperazione. Allora, su questo sfondo di questioni prende corpo poi un'altra, diciamo, originale rivisitazione che Pier Giorgio ci fornisce della distinzione tra i due termini etica e morale. Perché ovviamente c'è una tradizione, per così dire, distintiva dei due termini etica e morale, che possono certamente essere utilizzati come sinonimi se, diciamo così, se ne intravede, insomma, la radice etimologica per cui l'unica differenza risulta dal fatto che il termine, appunto, etica è riconducibile all'ethos greco e il termine morale, invece, appartiene alla cultura latina. Però la radice è la stelsi, di significato è la stessa. Se vogliamo individuare questa unica accezione semantica dei due termini etica e morale, riconducibile al senso di ciò che si riferisce al costume, all'abitudine, alla tradizione. In realtà ci sono altri nuclei semantici, per esempio quello per cui, che sono richiamati ovviamente nel corso del ragionamento di Pier Giorgio, e cioè l'ethos è anche riferibile ovviamente al carattere, anche il carattere, l'ethos è anche la dimora. E su quest'ultimo punto ritornerò proprio per la prima proposta terminologica distintiva, che in modo originale Pier Giorgio prende in considerazione una proposta terminologica, come lui scrive, del passato, che è quella hegeliana, per poi affiantare a questo tipo di, come dire, modalità distintiva dei due termini etica e morale, la, come dire, proposta di distinzione nel presente offerta fornita da Bernard Williams. Qui il filo conduttore che lega questo segmento mio di, come dire, individuazione di punti importanti al primo nucleo di considerazioni a cui ho accennato, è dato proprio dal fatto che queste proposte terminologiche distintive, su cui non insisto perché sono, diciamo così, ben note, ma vorrei farne emergere il tratto di originalità nella rivisitazione fornita da Pier Giorgio che consiste nell'inquadrarla in una questione più ampia. Queste due proposte terminologiche, quella del passato di distinzione tra etica e morale e quella del presente fornita da Williams. E cioè si inseriscono nella prospettiva di questi due modi di guardare alla morale, cioè il modo appunto ampio, la morale come concezione ampia e la morale invece come concezione unificata. Perché le due proposte terminologiche, tanto quella hegeliana, tanto quella di Williams, in realtà riconducono la morale sostanzialmente alla concezione kantiana. È molto evidente questo naturalmente in Hegel, nella sua, come dire, distinzione e anche correlazione tra moralità ed eticità proprio perché la eticità è certamente superamento ma anche in funzione del punto di vista morale che precede la eticità e che di cui appunto, di cui Hegel individua il limite esattamente in quello che possiamo dire con un linguaggio non hegeliano ma pertinente e adeguato, la unicità della prospettiva morale kantiana, del punto di vista morale kantiana, come lo chiama Hegel, che è limitato, cioè unilaterale, univoco perché astratto, infanto appunto unitario. Ma che cosa vuol dire una concezione appunto unificata della morale su cui insiste Williams nella propria, per così dire, proposta di distinzione terminologica tra i due termini ripensata appunto nella prospettiva di Pier Giorgio. E vuol dire una concezione unificata della morale indica la morale kantiana come appunto circoscritta, unilaterale, appunto univoca. Quindi una morale in realtà che si autosostiene, autosostenuta naturalmente sul elemento fondativo della razionalità. Quindi Kant come espressione di una concezione unificata della morale, che vuol dire anche separata. Quindi una concezione separata della morale. Cioè la morale separata dalle altre sfere qualitative, separata dalle altre sfere pratiche. E ritroviamo in fondo anche nel Novecento, quindi nella, diciamo, nella, nell'etica contemporanea, nelle proposte etiche della contemporaneità in Richard Hare, per esempio, una concezione di questo tipo. Cioè una concezione unificata della morale in cui i giudizi morali sono ben distinti dagli altri giudizi, non solo hanno caratteristiche che li connotano in modo specifico e che sono ovviamente la prescrittività, la universalizzabilità, la soverchianza, cioè la predominanza sugli altri, per così dire, principi non morali. Quindi questa idea di separatezza, di concezione unificata, che diciamo si contrappone a una concezione aperta. E questo quadro, diciamo così, questo tipo di articolazione molto interessante, può essere anche riletta, riletto nella direzione dell'altra celebre, come dire, distinzione, quella tra prescrittività e descrittività. E allora, certo la morale come, diciamo invece, concezione aperta, qui è importante, interessa, mi è sembrato molto interessante, di grande rilievo, il riferimento a quelle concezioni della morale, come dire, anti-unificate, diciamo che critiche nei confronti della concezione unificata, che insistono invece sulle immagini della morale come miscuglio. Anche qui c'è una ripresa della terminologia del lessico wittgensteiniano, cioè l'idea di morale come accozzaglia addirittura, come miscuglio di elementi, di aspetti differenti, eterogenei, dove però l'eterogeneità non implica, ovviamente, che non vi sia un ordine. Quindi una miscuglia, allora la morale come miscuglio, nelle pagine di Nicola Diamond, che riprende la lezione wittgensteiniana, la morale è appunto accozzaglia, miscuglio, dicevo eterogeneo, ma non disordinato. Questo quadro, diciamo così, questa prospettiva, riprende, come dicevo prima, cioè ci riporta, ci porta dentro un altro aspetto importante, un altro tema importante, quello cioè della normatività, delle teorie normative. Perché? Perché la critica alla concezione della morale unificata, a cui sto facendo cenno, che è di matrice, appunto, wittgensteiniana, che traduce un punto di vista del secondo wittgenstein nell'ambito della filosofia morale, questo tipo di prospettiva è, come dire, condotto alla luce della critica correlata alla semplificazione, che è ancora una volta di tipo, appunto, wittgensteiniana. Dunque, in questo senso si rivolge contro la teoria morale normativa, come appunto sottolinea Pier Giorgio a pagina 126 del volume, richiamando proprio il passo wittgensteiniano, cui ho fatto facendo prima quello che fa riferimento alla lastra di ghiaccio, dove appunto, dove tutto scorre, diciamo, più facilmente, ma non c'è a tutto. E allora la teoria morale normativa costituisce il punto, diciamo, nevralgico di questo tipo di discorso, di percorso, intesa nella, anche qui, in una duplicità, insomma, in un duplice profilo, cioè sia come modello filosofico della procedura decisionale, ma anche come modello, ovviamente, dei criteri normativi. E in entrambi i profili la teoria normativa, nella indicazione di Pier Giorgio Donatelli è una struttura filosofica, si presenta come struttura filosofica che indica appunto come si delibera o come cosa renda corretta un'azione. Questo ambito ampio è poi, come dire, rivisitato ancora attraverso una, diciamo, ulteriore precisazione, diciamo, distintiva, cioè il lavoro filosofico inteso in modo ampio come articolato in metaetica e teoria normativa può essere ripensato poi anche con uno sguardo più stretto, individuando due ambiti più ristretti che sono quelli che Pier Giorgio chiama i modelli e i metodi. E allora dal punto di vista, diciamo, della posizione del problema nei termini di modelli e metodi, qui ho trovato interessante questa articolazione delle differenti modellizzazioni dell'etica che Pier Giorgio offre, cioè tre differenti modi di modellare l'etica. Ecco, anche questo, diciamo, modo di dire la cosa ho trovato originale e innovativo. E cioè originale e innovativo dire, parlare di modelli dell'etica in questi termini. I modi, cioè in cui l'etica è modellata, insomma, nel lavoro filosofico. I modi in cui l'etica è modellata sono tre, secondo Pier Giorgio. Poi Simone, quando io sto andando fuori dai tempi, tu mi fai dei cenni netti perché poi magari posso ritornare sulle cose che non riesco qui a dire, no? E a mettere a fuoco perché sono effettivamente tantissimi. Benissimo. No, volevo fare soltanto questo rapidissimo cenno e concludere, diciamo, questa prima parte dell'intervento su quella idea a cui ho accennato prima della importanza del, come dire, del modo di ripensare i due piani prescrittivo e descrittivo. E allora i tre modelli di cui ci parla Pier Giorgio, questi tre modi di modellare l'etica, il primo è quello dell'etica come sapere pratico, insomma come sistema di regolazione sociale, come sapere pratico finalizzato alla convivenza, alla cooperazione delle persone. Poi c'è un secondo modello, quello che invece, diciamo così, si costruisce intorno alla centralità della persona, cioè del costruirsi e pensarsi della persona come dotata di un centro, come di un equilibrio, di una propria integrità. Quindi il modello dell'etica come arte della vita. E infine il terzo modello di cui ci parla Pier Giorgio è quello dell'etica come critica, in cui ancora è centrale, è importante questo tema del condursi, del modo del condursi nella vita, ma è posto in relazione critica, in rapporto critico con la società. Qui in questo terzo modello ritorna il riferimento hegeliano, perché anche questo è interessante, certamente Hegel non può essere considerato come modello di etica critica, come riferibile a questo modello in modo diretto, perché piuttosto interviene nella concezione hegeliana di eticità il recupero di quel terzo nucleo semantico che possiamo, diciamo, individuare nel termine implicato nel termine etos, nella sua radice greca, e cioè l'etica come dimora. L'eticità è hegelianamente anche dimora. E questo, diciamo, è un punto per cui l'eticità è integrazione nella dimensione intersoggettiva e nella dimensione delle istituzioni del soggetto, che ritrova se stesso nella dimensione realizzativa della libertà nelle istituzioni e dell'eticità e nell'articolazione dell'eticità, dove interviene più l'elemento appunto del dimorale che l'elemento critico. E tuttavia nel richiamo, insomma, che invece Pier Giorgio fa a questa origine del terzo modello dell'etica come critica, la possibilità, diciamo, del rapporto con la società può diventare critica, può diventare anche di rifiuto, oltre che di accettazione soprattutto del nucleo teorico interpretativo sviluppato a partire da Hegel, appunto da Marx, che conduce alla teoria critica della scuola di Francoforte. E naturalmente io mi fermo qui perché appunto vorrei, dovrei aggiungere tante cose a questi primi, come dire, primo ventaglio di temi che mi hanno colpito, mi sono colpita per il modo originale in cui sono stati ripercorsi e considerati, ma possiamo naturalmente poi, posso eventualmente ritornarvi in un secondo giro. Grazie, grazie molte Ines. Allora io adesso do subito la parola al secondo relatore, che è Mario De Caro dell'Università di Roma 3. Vedo nella chat che c'è qualcuno che appunto è rimasto fuori purtroppo, ma siamo arrivati ai 100 partecipanti. Io, come dire, ero convinto che noi come Sapienza avessimo attivato un abbonamento professionale che consentisse maggiori numeri, lo scopro oggi che non è così. Stranno questa cosa comunque. Sì, purtroppo non ho modo, come dire, né di verificare così in diretta né di risolverlo. Questo, devo dire, è molto strano perché ieri ho partecipato a una cosa su Zoom e i partecipanti erano 500. Sì, ma è un altro abbonamento, più costoso. Simone, potresti adesso con la tua carta di credito sopperire questo problema della Sapienza? Va bene, il problema è la Sapienza, ovviamente. Allora, datemi un attimo e provvedo subito. Intanto tu comincia, Mario, poi se vedete che i numeri aumentano, vedete che ho fatto la donazione. Ti lascio la parola, Mario. Grazie. Grazie. Allora, premessa, come capita sempre in questi casi, Ines ha detto almeno la metà delle cose che volevo dire io. Capita sempre in queste presentazioni. Io me la cavo abbastanza perché il cognome inizia per la D. Vera, poverina, con la T. Non so cosa gli rimarrà da dire, però vediamo. Dunque, questo libro di Pier Giorgio Donatelli è estremamente ben scritto, chiaro e utile. Quindi per gli studenti che eventualmente non fossero obbligati a leggerlo, dovrebbero liberamente acquistarlo e leggerlo perché è veramente utile. L'ho trovato utilissimo su molti temi, soprattutto naturalmente sui temi di cui Pier Giorgio è molto più competente di me perché appunto ti permette al lettore di seguire tutta una serie di linee di discorso di grande rilevanza, spesso intrecciate tra loro, ma riesce a dipanare molto bene la discussione. A differenza di altri libri che Pier Giorgio Donatelli ha scritto in questi anni, che avevano più un impianto storico tradizionale, questo è proprio un libro che per la maggior parte parla del dibattito contemporaneo. E io direi che forse in Italia non c'era ancora, mentre c'erano già storie della filosofia morale, del pensiero morale, non c'era proprio una presentazione così completa della discussione contemporanea. Ora, appunto si vede anche, naturalmente sono citati Aristotele, Kant e Hume e Mill, però autori come Wittgenstein e Dewey, come diceva Ines, o anche Bernard Williams, Marta Nussbaum, Peter Singer, sono secondo me l'oggetto principale della discussione green anche, e sono dedicate molte pagine, sono autori che paradossalmente, mentre nel dibattito internazionale sono ben noti, molto discussi, e in Italia ancora stentano, perché noi spesso, questo è un pregio, è un difetto della cultura filosofica italiana, rimaniamo molto attaccati ai classici, seguiamo un po' meno talora la discussione contemporanea, e questo non è il caso di Pier Giorgio, naturalmente. Allora, io vorrei concentrarmi su due punti. Uno è la bella parte, veramente chiara, in cui Pier Giorgio Donatelli mette a confronto le concezioni di Green, ma Green in particolare, e Height. Sono due concezioni molto moderne, che guardano alla scienza, e che guardano anche al rapporto tra emozioni e ragioni. Su questo si gioca buona parte della discussione contemporanea. A me sembra però che parte di questa discussione non sia ancora pienamente consapevole di quello che succede invece in campo scientifico, per esempio in psicologia cognitiva e neuroscienza, ma soprattutto in psicologia, rispetto al rapporto tra... Non sto dicendo che questo è un difetto del libro, sto dicendo che questo è un limite di alcune posizioni. Per esempio, per fare un esempio proprio, quel di Height. Cioè, come sapete, la tradizione filosofica moderna sostanzialmente è stata una concezione per la maggior parte razionalistica, in cui c'era questo luogo dell'autocoscienza che sostanzialmente dirigeva la mente e anche la mente morale, ponendo limite, per quanto possibile, al nefasto influsso delle passioni e delle emozioni. Questo è un filone, no? Descartes, Kant, eccetera. Poi c'è il filone alternativo, Chium, per cui invece la ragione schiava delle passioni. Queste sono due visioni sostanzialmente gerarchiche. Nella prima, la mente ha priorità ontogenetica, concettuale, pratica. La ragione, la cognizione hanno priorità sulle passioni e sulle emozioni, sugli stati non cognitivi. Nella tradizione chiumiana il rapporto si sovverte. Sostanzialmente la piramide viene rovesciata, la gerarchia viene rovesciata e sono le passioni che dominano il quadro. C'è un famoso articolo appunto di Haidt che dice The Emotional Dog and Its Rational Tail. Il cane razionale, scusate, il cane emotivo è la sua coda razionale, che vuole dire che la razionalità è come la coda del cane, viene mossa dal corpo e magari la coda, se potesse pensare come la pietra di Spinoza, si penserebbe che ha deciso di muoversi. In verità è mossa dagli stati non cognitivi, dalle emozioni, dalle passioni, eccetera, dagli istinti. Quindi, notate, sono due concezioni. La ragione prioritaria sulle emozioni è viceversa. In realtà oggi le cose sono un po' meno nitide. In primo luogo, molti insistono con ottime ragioni sul fatto che non esistono due generi naturali, tipo ragione e stati non cognitivi, coesi al loro interno come sono i generi naturali. Semplicemente non esistono. Sono insiemi estremamente eterogenei. Gli stati emozionali e emotivi sono molto differenziati al loro interno. Non ci sono proprietà che condividono tutti gli stati emotivi e si comportano molto diversamente, giocano ruoli molto diversi, ma lo stesso vale per gli stati cognitivi e razionali. E questo è il primo punto, dunque. Non esiste la ragione e le emozioni e quindi è già sbagliato dire che il piano emotivo o il piano razionale e viceversa hanno priorità sull'altro piano, perché non esistono questi due piani così definiti. In più, e questo è un altro filone molto importante, la stessa idea della gerarchia è saltata. La verità ormai è acquisito che emozioni e cognizione, stati cognitivi e razionali, e gli stati emotivi, sono interdipendenti. E questo lo si fa vedere, per esempio, rispetto a processi paradigmaticamente cognitivi, come la memoria e l'attenzione, che coinvolgono le emozioni, sempre, necessariamente, in termini di struttura, funzione e anche di connettività interna. Cioè, senza emozioni, la memoria e l'attenzione non funzionano. Ma io direi di più, non funziona neanche l'attenzione morale alle situazioni in cui ci troviamo a vivere. Cioè, l'idea tradizionale, cartesiana o anche in parte kantiana, che la ragione guida la morale, sappiamo da Masio, da tanti, che poi vengono anche citati da Pier Giorgio, non funziona così. Una ragione senza passioni è disastrosa. Non coglie proprio la valenza morale delle situazioni in cui ci troviamo. Viceversa, processi paradigmaticamente emotivi, come le pulsioni e le motivazioni, coinvolgono la cognizione. Cioè, questi sono processi che dovrebbero essere paradigmatici, la memoria e l'attenzione della ragione, e le pulsioni, i drives e le motivazioni dovrebbero essere paradigmatiche delle emozioni. Invece no, è un misto in tutti e due i casi di ragione ed emozioni. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente il dibattito tra Hyde e Cohen è un po' obsoleto dal punto di vista dei riferimenti scientifici. Cioè, l'idea che ci sia un priorità della ragione o priorità delle emozioni non regge alla prova dell'analisi scientifica, perché devono necessariamente giocare assieme questi due piani. Sono piani eterogenei e in più devono giocare assieme. Non possono non giocare assieme. Questa era la prima cosa che, appunto, è uno spunto a partire dall'ottima ricostruzione di Pier Giorgio. Forse si può andare oltre il dibattito tra... Forse Pier Giorgio sarà anche d'accordo a questo dibattito che ricerca la priorità delle emozioni o delle ragioni nella vita morale o nella vita razionale, se è per questo. Secondo punto, e questo è un tema su cui invece abbiamo un punto di vista diverso, Pier Giorgio non si interessa molto, legittimissimo, ai fondamenti mesafisici della morale. Per esempio, del libero arbitrio parla solo, che invece secondo me è importantissimo, parla in tre-quattro pagine, belle, molto ben fatte, in cui appunto descrive il ruolo del libero arbitrio, della questione del libero arbitrio nella filosofia kantiana, accenna la posizione opposta sostanzialmente di Antitetica, di Hume. Però poi non è un tema che Pier Giorgio considera molto, ma ne abbiamo già parlato, semplicemente c'è una tradizione in filosofia morale, per cui le discussioni metafisiche sono in qualche modo da evitarsi, diciamo così. La discussione sulla morale si gioca su un piano diverso, un piano appunto, per esempio, attento alle pratiche, il che è legittimo, credo. Tuttavia oggi ci sono, appunto, e lo sappiamo bene tutti, lo sa bene anche Pier Giorgio naturalmente, delle sfide alla nozione di libero arbitrio, che non vengono dalla metafisica, ma vengono dalla scienza, e che hanno delle ricadute molto importanti sulle visioni che abbiamo del mondo morale. Io non penso tanto ai famosi esperimenti alla Libet, che ci dicono sostanzialmente che noi possiamo, che siamo determinati da eventi neurali che non controlliamo nelle nostre scelte e azioni. Questo per la maggior parte dei filosofi morali o anche teorici dell'azione non è un problema. Il fatto che le mie azioni consapevoli siano eventi neurali inconsci va perfettamente d'accordo con l'idea che era di Hume, per esempio, che possiamo essere liberi anche se siamo determinati, anzi, dobbiamo essere determinati, diceva Hume, per essere liberi, perché se non siamo determinati allora c'è soltanto il caso, che è l'opposto della libertà. Quindi la visione, molti si lamentano, si altilai sulla possibilità che Libet abbia provato che non esiste libero arbitrio e dunque non esiste proprietà morale, questo è fuoristrada. Non è così, perché per la tradizione compatibilista, anche se siamo determinati, non c'è un problema per il libero arbitrio e conseguentemente per la filosofia morale che, appunto, sia Kant e che Hume poi ritengono che ci sia un nesso fondamentale tra libero arbitrio e moralità. E molti autori, sebbene non tutti, lo pensano ancora oggi. La vera sfida viene dalla psicologia sociale, psicologia cognitiva in genere, perché quello che emerge da molti studi è una visione diversa della mente. È la visione per cui gli stati coscienti, non è che sono determinati inconsciamente, questo sì, certamente, ma non è questo il punto. Il punto è che gli stati coscienti non giocano nessun ruolo causale nelle nostre decisioni e nelle nostre azioni. Questo in teoria morale è simile a quello che dicono i famosi situazionisti. Cioè, noi siamo così condizionati dal nostro apparato mentale, dall'ambiente che ci circonda, eccetera, che prendiamo le decisioni che prendiamo per motivi che ci sono sconosciuti. C'è un enorme, e questo accade spesso sicuramente, c'è un'enorme letteratura su questo. Cioè, noi facciamo le scelte che facciamo senza sapere perché le facciamo, ma non contenti di ciò, ci inventiamo delle spiegazioni, delle giustificazioni a posteriori razionalizzazioni, confabulazioni, si possono chiamare in molti modi, per spiegare perché abbiamo scelto. La verità è che noi non abbiamo la minima idea perché abbiamo fatto queste scelte. C'è un bellissimo esperimento fatto in Svezia da Peter Johansson, che funziona così. Lui si metteva fuori da un seggio elettorale dopo un'elezione in Svezia e dava ai soggetti che uscivano un questionario, in cui loro da uno a sette, credo, dovevano dare un peso all'importanza di certi temi cruciali nel dibattito politico. Se bisogna aumentare la spesa per gli armamenti, se bisogna aumentare la spesa per l'istruzione, se bisogna controllare il comportamento su internet delle persone e tu dovevi dare un voto da uno a sette. Allora le persone davano questi voti e poi gli si chiedeva di sapere se tendevano ad essere di destra o di sinistra. Allora questo, quello di destra, dava tutte le spiegazioni di destra, metteva là, più o meno, non tutto, ma insomma, intanto l'astuto sperimentatore che faceva? Copiava, vedeva quello che faceva quello e copiava le risposte, ma alcune le cambiava drammaticamente. D'accordo? Per esempio, se uno diceva bisogna lasciare, evitare la censura su internet, gli dava la risposta opposta. Lo faceva per due, tre su un terzo delle risposte. Dopo gli dava la copia modificata. Quasi nessuno si accorgeva che era modificata e le persone cominciavano a spiegare le ragioni per cui avevano fatto le scelte e che non avevano fatto. Tipo quello che aveva detto che no, non ci vuole la censura su internet, di fronte al fatto che aveva scritto che invece si ci voleva, ha cominciato a dire, beh sì, perché stamattina ho sentito la radio, effettivamente ci sono i terroristi che usano internet. Cioè, a giustificare con se stesso, in primo luogo, la risposta che aveva dato. Hanno fatto studi comparativi di tutti i tipi e si è capito che l'atteggiamento è esattamente lo stesso se noi, se ci hanno modificato le risposte o no. Proprio fisiologicamente le risposte che dà il tipo di atteggiamento che abbiamo. È esattamente la stessa cosa. Per noi è uguale. Ogni volta dobbiamo inventare, cercare di capire perché abbiamo scelto. La verità è che, secondo molti autori, non lo sappiamo. Se è così, qui il libero arbitrio, come dicono gli americani, ghost bananas, bananas finisce. Perché è condizione di tutte le concezioni del libero arbitrio, anche del compatibilismo, che gli stati coscienti abbiano potere causale. D'accordo? Quaina ha scritto io sono compatibilista nella misura in cui le mie motivazioni coscienti partecipano della catena causale che mi porta ad agire. Io sono, credo, un libero arbitrio di questo tipo. D'accordo? Anche se siamo determinati e questo è sufficiente. Però se i miei stati coscienti non sono mai, come dicono questi autori, per esempio Wegener, per esempio Johansson, per esempio Pereboom, per esempio Caruso, questi sono tutti autori che dicono ragazzi guardate, ragazzi e ragazze, guardate che qui non c'è potere causale della mente cosciente. Il libero arbitrio non c'è, quindi non c'è la responsabilità morale. Bisogna cambiare completamente la nostra visione della morale e anche della pena, della teoria della pena. Perché noi puniamo le persone nella misura in cui sono capaci, noi diciamo, capaci di intendere e di volere. Ma qui in verità, nel senso di volere, del volere causale, non c'è nessuno secondo questi autori. Ora, se questi avessero ragione, effettivamente ci sarebbe un enorme problema per la morale e molti lo pensano. C'è un grandissimo dibattito. Devo segnalare anche a te che siamo arrivati quasi alla fine del tempo. Sì, e quindi questi autori ritengono che bisogna accettare una visione della pena in cui non c'entra niente il fatto se qualcuno meriti o no la pena, ma questo apre la strada a cose terribili tipo i capri espiatori o le punizioni eccessive per dare un esempio. Naturalmente, a mio giudizio, non è esattamente così. Ci sono i casi in cui noi deliberiamo profondamente sulle cose, pensiamo, ponderiamo. In quei casi, io penso che si possa continuare a pensare che esercitiamo qualcosa come il libero arbitrio e per quelle decisioni siamo pienamente responsabili, ma per molte altre la situazione è più complicata. Ecco, era solo un esempio di come si può ampliare la discussione che così bene Pier Giorgio ha fatto nel libro. Grazie, grazie molto Mario. E allora passiamo subito al prossimo relatore che è Adriano Fabris, professore Adriano Fabris dell'Università di Pisa. Anche a lui chiederei di rimanere sui 15 minuti. Grazie, prego. Grazie a voi. Beh, mai come oggi l'abbiamo, lo sappiamo, l'abbiamo letto anche dal libro di Donatelli, l'etica è all'ordine del giorno. Dunque Donatelli ha ragione a sottolineare tutto questo, così come ha ragione nelle pagine iniziali del suo libro anche a stigmatizzare l'abuso dell'etica e la sua trasformazione, io sono abituato a dire in etichetta, cioè in una etica piccola piccola che si appiccica quasi per giustificare buoni comportamenti o prodotti che riteniamo buoni, come ad esempio quelli grini o cose del genere che prendiamo al supermercato, bio, eccetera. E certo, ha ragione anche nel sottolineare che in questa trasformazione dell'etica in etichetta impazzano moralismo, cinismo e lo vediamo e lo tocchiamo ogni giorno. Perché appunto questa ambiguità? Pier Giorgio lo dice chiaramente, ambiguità nel senso appunto ritorno dell'etica ma anche trasformazione e magari anche decadimento dell'etica stessa. Se leggiamo le sue pagine iniziali abbiamo una risposta da una parte l'etica si autonomizza sempre di più, si separa dalla religione, dalla politica, forse non si è ancora separata fino in fondo dalla scienza o quantomeno ci ritornerò un rischio di riassorbimento di questa autonomia dell'etica e proprio da parte di una sua riduzione diciamo ad uno spin-off di determinate teorie scientifiche. d'altra parte ecco questa attuale situazione è anche la condizione perché noi non soltanto prendiamo atto di un ritorno dell'etica e di un suo possibile fraintendimento o utilizzo strumentale c'è anche la possibilità di fare determinate scelte rispetto a questo vale a dire recuperare consapevolmente uno spazio autonomo dell'etica facendone davvero un problema dell'umano e non solo e questo sarà il tema della mia riflessione questo sarà lo sfondo all'interno del quale vorrò rivolgere alcune domande a Pier Giorgio Donatelli perché oggi questo quadro di rinnovamento e di rilancio dell'etica sì certo sono estremamente opportune le categorizzazioni le specificazioni l'inquadramento delle tematiche e degli sviluppi contemporanei che Pier Giorgio pone nei vari capitoli del libro soprattutto nei primi nei primi sei capitoli su cui peraltro si sono concentrati anche i relatori che mi hanno preceduto definizione principi la morale senza nomatività le varie teorie morali i metodi dell'etica le origini della morale stessa ma in questo quadro ripeto ambiguo per un verso di rilancio e di ripresa importante dell'etica peraltro verso di suo fraintendimento in questo quadro sono forse ancora più significativi e più esempi su cui riflettere gli ultimi due capitoli sono i capitoli nei quali più evidente è quell'allargamento dell'ambito dell'etica della portata dell'etica che rende l'etica oggi così feconda perché se l'etica è l'ordine del giorno è perché si è trovata a essere chiamata in causa in ambiti che in precedenza non la contemplavano si è trovata appunto ripeto soggetta ad un interessante quanto problematico allargamento mi riferisco allargamento verso la bioetica intesa come etica della vita in tutte le sue forme come giustamente e correttamente l'interno dell'atterno nel capitolo settimo mi riferisco soprattutto all'ambito all'allargamento dell'etica all'ambito delle tecnologie digitali sembrerebbe sembrerebbe che questi due allargamenti procedano in parallelo siano analoghi si tratta infatti di pensare un comportamento buono non solo nel caso del comportamento umano ecco l'allargamento dell'etica non siamo più soltanto noi soggetti di azioni che possono avere interesse etico poi specificherò meglio cosa vuol dire questo e naturalmente ecco già qui si vede lo sfondo del mio discorso della mia riflessione sul libro di Donatelli in che termini in che senso si può parlare ancora di una prospettiva di un approccio umano o addirittura umanistico in questo quadro in questa dimensione però appunto ripeto riprendiamo c'è un allargamento un allargamento al di là del comportamento umano che e dei suoi principi e dei suoi criteri che si estende da una parte all'agire di entità non umane naturali o artificiali che sia e allora qui ecco l'allargamento dell'etica citata di ridefinire il ruolo che l'essere umano nel suo agire ha nei confronti dell'agire di queste entità e quindi nello suo interagire con esse cioè si tratta di ridefinire l'agire dell'essere umano ecco perché oggi l'etica ha così tanto spazio ed è così interessante ecco perché ai miei studenti dico un po' come battuta ma ci credo che forse oggi appunto è molto più nuovo le sfide sono molto più importanti nell'ambito dell'etica di quanto non possano accadere in altri ambiti della ricerca filosofica tutto questo accade soprattutto e sto restringendo appunto per ragioni di tempo all'ambito della interazione con le tecnologie digitali quindi mi concentrerò soprattutto sull'ultimo capitolo in particolare al campo dell'interazione dell'agire umano con le tecnologie digitali dotate di intelligenza artificiale anche qui non descrivo non ripropongo le questioni puntualmente affrontate nel libro peraltro il capitolo è una rielaborazione di un bell'articolo pubblicato in bioetica nel 2019 rimando tutti gli studenti ad andarsela a leggere perché queste sono veramente le cose scottanti urgenti di oggi preferisco rivolgere a Pier Giorgio una serie di domande puntuali concrete primo Pier Giorgio quale autenticità di vita quali forme di vita e soprattutto la vita di chi vi è nei contesti digitali in quei contesti in cui anche la vita si artificializza anzi si parla più di artificiale piuttosto che di vitale meglio in un contesto in contesti in cui l'artificiale imita mima il naturale fino addirittura a prenderne il posto fino addirittura a diventare il modello del naturale le dimensioni del postumano del transumanesimo ovviamente si leggono in questa in questa chiave in altre parole come può il modello della vita etica che è il riferimento del tuo pensiero e ovviamente anche lo sfondo di questo libro come può questo questo modello che è un modello nonostante tutto umano modellato plasmato impostato sull'essere umano se non addirittura come anche tu dici l'ha ricordato Ines prima un modello umanistico come può questo modello essere riproposto in un contesto in cui l'essere umano non può più essere al centro tu lo dici all'inizio e questo ecco forse l'ho capito male però ci tengo a capirlo fino in fondo e a capirti fino in fondo tu lo sai da una parte appunto si parla di questo allargamento e si coinvolgono altri soggetti dall'altra parte però ritorna questo umanesimo di fondo declinati in una certa maniera ecco le due cose non mi tornano devo capire meglio come stanno assieme aiutami seconda serie di questioni Donatelli nel libro esituisce una ben precisa ben chiara analogia con l'etica della vita in questo ottavo capitolo con l'etica della vita che è quella che appunto è affrontata nel capitolo precedente nel settimo capitolo non ho tempo di discutere di illustrarlo ma lo sappiamo ecco ma altra domanda come può essere mantenuta questa analogia appunto lo accennavo prima proprio nel caso delle entità artificiali nelle quali appunto non c'è vita nel senso biologico in senso proprio insomma non è che voglio darti le risposte voglio dirti che ho cercato di pensare insieme a te ho cercato di darmi le risposte perché mi sembra anche molto più serio e molto più onesto non essere quello che si mette a fare il cecchino e dice poi adesso ti sparo e ti arrangi te no ecco mi metto anche io a lavorare a tuo fianco anche perché sono le cose su cui come sai sto lavorando dal mio punto di vista nella mia prospettiva di un'etica relazionale allora qual è la questione di fondo la questione di fondo è quella a mio parere di porre nella giusta relazione nella giusta relazione l'essere umano da una parte e gli animali non umani e insieme i dispositivi dotati di intelligenza artificiale dall'altra è vero che vi è una tendenza sempre più forte di cui anche il libro di Donateri dà conto a eliminare ogni differenza e anche su questo vorrei un po' sapere il tuo parere perché mi sembra ci sia un'ambiguità nel tuo libro che dobbiamo fare visto questo allargamento mettiamo l'essere umano sullo stesso piano degli animali non umani seguendo una tradizione oggi sempre più ampia e diffusa lo mettiamo sullo stesso piano di quei dispositivi tecnologici che sono in grado di mimare non solo anzi di risolvere di agire in maniera ancora più precisa performante efficiente rispetto a quanto fa l'essere umano quindi eliminiamo ogni differenza siamo in questo momento siamo on life effettivamente ma allora appunto che ne è dell'etica senza questa differenza in questa dimensione di indifferenza oppure questa differenza in qualche modo va recuperata e come va recuperata certo da un punto di vista descrittivo l'indifferenza c'è è evidente le scienze naturali mostrano la vicinanza di DNA fra l'essere umano e alcune specie particolari di esseri viventi di scimmie eccetera la dottrina dell'evoluzione lo spiega secondo uno sviluppo storico certe dottrine morali dimentiche forse un pochino della legge di Hume traggono da questi dati conseguenze normative e analogamente ripeto analogamente si va sempre più verso una ibridazione uomo-macchina verso una perfetta imitazione dell'essere umano da parte della macchina anzi un suo miglioramento che ci trasforma in automi imperfetti come già Bonvecchio Cartesi diceva ma di nuovo qui sta il punto ciò che può valere anche a livello scientifico e può essere magari fatto oggetto di una descrizione fenomenologica non vale dal punto di vista etico o almeno questa è la tesi che io sto cercando di argomentare non so se sei d'accordo è il motivo del forse questo è il motivo dell'attualità dell'etica oggi proprio questo perché l'etica funziona solo a partire dal riconoscimento della differenza dell'essere umano rispetto alle altre entità naturali o artificiali che siano quella differenza che sola è condizione per l'essere umano di instaurare una relazione con queste entità che poi tutto ciò lo decliniamo in termini di libertà e come decliniamo la libertà eccetera questo lo lascio all'amico Mario io sto parlando semplicemente del recupero di una differenza dell'essere umano che va sviluppata approfondita a chiari termini etici se ci muoviamo nell'ambito dell'indifferenza forse abbiamo certamente ragione da un punto di vista descrittivo ma forse ci perdiamo tutto il resto che l'etica oggi ci può dare e che ci sta dando se prendiamo sul serio siamo d'accordo l'inizio del libro di Donatello concludo concludo dicendo qualcosa di mio quindi ecco lo dico ai nostri studenti ho finito col parlare con l'illustrare col discutere i libri di Donatello adesso dico qualcosa di mio insomma nelle discussioni si fa così anche anche nelle presentazioni dei bei libri degli amici ecco personalmente ritengo e ho cercato di argomentare il fatto che questa distinzione questa differenza è una differenza etica in termini di relazione di responsabilità non nel senso in cui parlava di questo termine prima Mario si tratta invece di assumere da parte dell'essere umano la responsabilità di quelle azioni che altre entità non umane o artificiali nel loro agire non possono assumersi insomma in una parola né gli animali non umani né i robot possono assumersi responsabilità delle azioni che esse compie l'essere umano lo può fare e allora qui c'è una differenza etica che rende l'essere umano capace di essere quello che è cioè capace di prendersi cura dell'ambiente capace di prendersi cura dei mondi della vita capace di confrontarsi di interagire con l'artificiale tecnologico e qui credo davvero sia il motivo dell'importanza e dell'urgenza di un'etica oggi qui penso che ci sia il perché della necessità che la filosofia come recita appunto il titolo del libro di Donatelli la filosofia si rapporti con la vita etica in tutte le sue forme e la assuma sopra di sé supplendo così anche quegli esseri che non sono in grado di farlo vi ringrazio ecco allora grazie grazie molte ad Adriano Fabris per il suo intervento perfettamente nei tempi e allora adesso devo devo dare la parola a me stesso non in un abuso di potere spero ma diciamo nelle prerogative costituzionali allora intanto voglio iniziare dicendo che è un piacere essere qui a discutere questo nuovo libro di Pier Giorgio Donatelli anche se diciamo pur avendo come dire consapevolezza anche grazie alla lettura del libro di Pier Giorgio della possibile ricchezza delle nostre vite digitali comunque almeno almeno per il momento diciamo il dispiacere per non essere tutti come dei corpi in tre dimensioni a parlare nella stessa aula c'è ecco diciamo che questo è ancora come dire un dispiacere che permane e non ho molto tempo a disposizione quindi non appunto anche perché poi è già stato fatto da chi mi ha preceduto non introdurrò questo intervento con una ricostruzione complessiva del volume dei suoi temi di cui appunto si è già detto molto voglio solo sottolineare come dire prima di dedicarmi a quelle che sono i temi specifici dei quali vorrei su cui vorrei dire qualcosa e stimolare appunto la discussione con Pier Giorgio e in qualche modo sottolineare quella che è la struttura del lavoro che mi sembra particolarmente fertile e stimolante cioè che il libro ha un'organizzazione presente un'organizzazione concettuale tale che va molto oltre il compito di introdurre e presentare l'etica ma in qualche modo presenta un metodo di riflessione sull'etica stessa cioè non è una introduzione all'etica non è una presentazione dell'etica intesa come diciamo non solo vita morale ma etica filosofica ma è una proposta di metodo di riflessione in etica ovvero uno stile riflessivo dell'etica ecco e proprio partendo da questa constatazione cioè dal fatto che il libro è una presentazione di un peculiare stile riflessivo sull'etica vorrei fare qualche breve considerazione sul testo o meglio su specifici punti del lavoro di Pier Giorgio Donatelli per riflettere su quello che mi sembra un tema importante centrale forse un asse di questo stile stile riflessivo questo stile è chiaramente una proposta teorica filosofica secolarizzata ovvero una proposta che considera il fenomeno della vita morale degli esseri umani come originata da circostanze del tutto materiali appunto della vita degli inumani e di quella particolare specie che è l'homo sapiens nella sua storia evolutiva biologica culturale questo stile riflessivo che ci propone Donatelli è uno stile naturalistico e naturalizzato e ovviamente essendo tale non fa in nessun modo appello a piani spirituali genealogie metafisiche e in modo più chiaro ed esplicito devo dire rispetto a lavori precedenti di Pier Giorgio questa opzione naturalistica è rafforzata con una ricostruzione esustiva chiara dettagliata di cui si è anche già detto dei principali temi e delle voci più autorevoli della ricerca sulle origini della morale questo è il titolo del capitolo del capitolo sesto e che è dedicato appunto a un'indagine su tale origine che inquadra come recita il titolo del primo paragrafo proprio del capitolo sesto la morale in una prospettiva evoluzionistica ecco io vorrei proprio concentrarmi sulle pagine del libro che sono dedicate a questa ricostruzione e al peso che mi sembra avere questa ricostruzione all'interno dell'elaborazione teorica complessiva e vorrei proprio avviare questa ricostruzione partendo da un'affermazione fatta da Pier Giorgio Donatelli all'interno della ricostruzione che lui fa di quello che direi è l'antecedente teorico delle contemporanee ricostruzioni evoluzionistiche della morale c'è le storie naturali di cui lui parla nel paragrafo secondo del capitolo terzo cioè normatività è storia naturale capitolo terzo una morale senza normatività scrive Donatelli in questi scritti non si stabiliscono i criteri normativi della condotta ma si racconta come le persone sono arrivate a essere vincolate da certe regole attraverso passaggi che illustrano scene antropologiche e sociali lo scopo è quello di illuminare la nostra condotta presente attraverso il confronto con queste diverse scene pagina 63 e più oltre poi continua precisando diciamo la funzione il valore di queste storie naturali la nozione di critica non è presente negli autori che lavorano sull'idea di storia naturale ma essi mettono in campo una modalità che possiamo chiamare critica lo scopo della filosofia non è quello di stabilire il piano normativo che illustra le condizioni perfette della condotta e dell'organizzazione sociale bensì di riflettere sulle condotte sui modi di relazionarsi e sulla cultura morale attuali trasformando la visione e l'atteggiamento delle persone dall'interno mettendo in luce aspetti che non sono in primo piano e annunciando conciò possibilità di vite che non erano evidenti l'idea della critica lavora sulla trasformazione interna della cultura morale quindi la storia naturale non incorpora l'idea di critica ma nel suo svolgersi assume una funzione critica dal momento che quando mette in luce origine e modalità della formazione della vita morale illumina quelle possibilità e quegli spazi che sono offuscati se non del tutto oscurati da concezioni filosofiche tradizionali dominanti e via dicendo e quindi se io ho ben capito il modo in cui Donatelli ritiene che la storia naturale possa funzionare come modalità critica dobbiamo pensare che queste ricostruzioni genealogiche della vita morale ci portino ad esempio a criticare come fanatici e contrarie alle nostre naturali e legittime inclinazioni le idee morale ascetiche come ad esempio faceva David Hume nella ricerca sui principi della morale oppure come con ambizioni metafisiche ancora più esigenti le ricostruzioni genealogiche naturalizzate della morale che partono da Darwin in qualche modo incontrano quelle parole di Darwin quando dice appunto che non può persuadersi che un dio intelligente e benevolo abbia creato la vespa perché inserisca le proprie uova all'interno del bruco e che le uova poi crescendo e sviluppandosi divorino dall'interno il bruco insomma una roba treminente crudele ecco diciamo questa naturalizzazione ci mostra come certe idee ide morali idee metafisiche risultino del tutto insensate ecco alle ricostruzioni evoluzionistiche della morale contemporanee Donatelli si dedica nel capitolo VI e su queste ricostruzioni e sul peso teorico che ad esse vengono che ad esse dato vorrei confrontarmi per chiudere sollecitandolo su una specifica questione teorica e per avviare il percorso su questa verso questa sollecitazione mi concentro sul paragrafo conclusivo del capitolo VI ovvero quello intitolato storia naturale della morale umana che è dedicato a una lettura critica del lavoro di Michael Tomasello che è uno dei più importanti protagonisti del dibattito scientifico e delle ricerche sulla moralità in un contesto evoluzionistico Tomasello con il cui Donatelli entra in dialogo elabora quello che nel suo campo è probabilmente la proposta più articolata di quello che potrei definire discontinuismo naturalistico cioè un tentativo di rendere conto dell'assoluta specificità e unicità umana in termini esclusivamente naturalizzati ed evoluzionistici questo tentativo in Tomasello è perseguito mediante una ricostruzione genealogica della moralità umana che vede nell'homo sapiens una capacità di accesso a punti di vista intenzionali condivisi che sono sovraindividuali oggettivi e che sono inaccessibili ad esempio a quelli che sono da un punto di vista filogenetico i nostri parenti più prossimi cioè gli scimpanze nei loro comportamenti cooperativi gli scimpanze non esibiscono questa peculiare appunto capacità umana di oggettività e di intenzionalità condivisa ecco qui io non posso ovviamente né ricostruire la prospettiva in modo analitico di Tomasello nel modo in cui Donatelli la critica e sviluppa appunto la sua critica peculiare dal lavoro di Tomasello e mi limito a rendere conto del punto di arrivo di questa lettura che fa Pio Giorgio e questo punto d'arrivo è riassunto mi sembra in questa frase che troviamo a pagina 187 l'oggettività morale spiegata da Tomasello non può rendere conto dell'universalismo assunto dal punto di vista dell'universo e più specificamente continua Donatelli la capacità di empatia e di simpatia ci avvicinano agli altri animali mentre le capacità di coordinamento cooperativo ci rendono piuttosto diversi da loro e mostrano lo specifico della storia umana che riguarda individui che si sono trovati da prima a cooperare tra piccoli numeri qui c'è una parentesi da salto e in seguito a vivere insieme in gruppi estesi senza poter contare sulla frequentazione della conoscenza personale c'è però un'ulteriore prospettiva che richiede una spiegazione ancora diversa e quella che riguarda la possibilità di arrivare a stabilire verità in forza della sola cogenza logica degli argomenti vale a dire in virtù del contenuto dei propri pensieri etici ed in un lato non proseguo nella citazione se non per arrivare all'appunto finale un'altra parte però funziona nel modo in cui Kant aveva sostenuto introducendo l'idea della ragione pratica e la sua comprensione non trova conforto nella spiegazione evoluzionistica in questo caso abbiamo bisogno di fare appello esclusivamente alla normatività mi sembra quindi che la conclusione che per Giorgio Donatelli raggiunge nella sua lettura degli autori e delle prospettive evoluzionistiche in etica sia quella che vede in questi autori in queste prospettive una base importante per la nostra riflessione critica e consapevole sull'etica ma comunque limitata nella prospettiva evoluzionistica cioè mi sembra di capire non si troverebbe una risposta al cuore pulsante della vita morale cioè quella capacità di trascendimento verso un punto di vista universale del quale le varie spiegazioni evoluzionistiche non sembrano in grado di dare conto in modo efficace questa conclusione mi sembra confortata da un'altra affermazione che si trova nel medesimo capitolo scrive infatti a pagina 166 Pier Giorgio le affermazioni a cui arriviamo in questi campi derivano dalla capacità di ragionare che è stata selezionata evolutivamente ma esse non possono essere spiegate direttamente in termini di selezione naturale la fiducia che riponiamo in esse non è minacciata perciò dalle ricostruzioni evoluzionistiche la fiducia non è minacciata dalle ricostruzioni evoluzionistiche c'è quindi un'autonomia e indipendenza della morale che resisterebbe alle spiegazioni evoluzionistiche in un duplice senso da un lato come si vede nella critica Tomasello la spiegazione evoluzionistica non riesce a rendere conto di ciò che c'è di davvero peculiare nella vita morale umana ovvero quel punto di vista trascendente universale in secondo luogo questo punto di vista trascendente universale con i suoi contenuti le sue ambizioni non è messo in dubbio dalla consapevolezza che tutta la forma di vita morale ha le sue radici nel gioco privo di scopo dei meccanismi dell'evoluzione la vita morale cioè dovrebbe sentirsi a riparo da quel timore espresso da Darwin quando osservando l'insensatezza e lo spreco di vita e sofferenza di cui ha bisogno il procedere e trasformarsi della vita scriveva che libro potrebbe mai scrivere un cappellano del diavolo sul goffo dispendioso fallace basso e orribilmente crudele lavoro della natura questo resistere dell'etica alle spiegazioni evoluzionistiche nel duplice senso di cui ho detto sopra sembra garantire agli esseri umani uno spazio a riparo un capitolo a parte nel libro scritto dal cappellano del diavolo appunto ecco su questa resistenza della vita morale e dell'etica come stile riflessivo alla naturalizzazione nella prospettiva evoluzionistica vorrei sollevare una questione come sollecitazione per la discussione con Pier Giorgi nel salvare la peculiarità della prospettiva universalistica e trascendente della moralità umana Donatelli concilia una storia naturale pienamente naturalizzata della moralità con quella auto percezione dell'essere umano circa le proprie capacità di trascendimento la propria di trascendere la propria stare naturale e di affrancamento da essa guadagnando quel punto di vista universale che caratterizza in modo caratteristico e peculiare l'etica ecco io vorrei tornare però con l'idea che Donatelli presenta nel ricostruire le storie naturali della morale di Rousseau e di Hume ovvero il fatto che una storia naturale possa illuminare diverse scene ecco in termini un po' schematici che sono ovviamente obbligati dal poco tempo a disposizione mi chiedo e chiedo a Pier Giorgio soprattutto se una storia naturale evoluzionistica non dovrebbe proprio illuminare una scena diversa ovvero renderci consapevoli della illusorietà di un punto di vista universale trascendente che ci affranchi dalla nostra storia naturale ovvero la lezione della storia naturale darwiniana più che essere conciliata con la percezione di noi stessi come esseri che hanno e qui apro virgolette cito Donatelli la possibilità di arrivare a stabilire verità in forza della sola cogenza logica degli argomenti vale a dire in virtù del contenuto dei pensieri etici di null'altro fine della citazione da pagina 188 ecco la lezione non dovrebbe piuttosto essere quella di vedere questa capacità come un peculiare prodotto dell'evoluzione che tuttavia non ci affranca completamente dalla nostra storia biologica e dal nostro destino biologico che è l'estinzione prima o poi spingendo fino in fondo questa osservazione si potrebbe ipotizzare che il compito di una ricostruzione evoluzionistica della storia naturale della morale umana dovrebbe essere quella di mostrare la illusorietà di questa capacità umana di trascendimento e di universalizzazione una questa illusorietà rendere conto di questa illusorietà non significa negare le capacità di astrazione umana di imparzialità di correzione della simpatia e di guadagno di quegli i umiani punti di vista fermi e generali ma rendere conto di questa illusorietà significa forse la consapevolezza della precarietà di questo punto di vista umano e delle sue ambizioni di trascendimento questa illusorietà significa anche la consapevolezza dei pericoli che questa capacità di trascendimento razionale ha secondo una certa lettura ad esempio la drammatica situazione di emergenza climatica nella quale siamo immersi e che a meno di azioni immediate e drastiche continuerà peggiorando ebbene questa situazione è proprio il frutto dell'esplosione di queste capacità razionali umani che hanno imposto intenzionalità e progettualità all'intero pianeta portandolo nell'era geologica dell'antropocene dove si creano tutte quelle drammatiche situazioni di cui Donatelli stesso dà conto nella parte conclusiva del suo volume che è dedicata al mondo non umano dove si indaga specificamente anche la nozione di sostenibilità sollevare questa osservazione ovviamente non significa auspicare un qualche reglesso evolutivo della specie umana a stadi evolutivi precedenti in una sorta di utopia di una decrescita biologica felice sollevare questa osservazione al contrario significa avanzare come ipotesi una consapevolezza della peculiarità evolutiva di questa prospettiva razionale del tutto umano con le sue potenzialità e oggi soprattutto con i suoi limiti una consapevolezza che in qualche modo dovrebbe renderci consapevoli a noi stessi del ruolo della ragione nella vita biologica della specie umana e nelle vite biografiche dei singoli homo sapiens in questo senso la funzione della scienza sicuramente quella della comprensione del vivente nella biologia evoluzionistica forse dovrebbe andare oltre il progetto di una collaborazione con un discorso morale intellettuale civile comunque autonomo e io parlo di collaborazione perché appunto scrive Pier Giorgio Donatelli pagina 237 tuttavia come persone colte informate siamo chiamati a sviluppare una consapevolezza critica del lavoro intellettuale che viene svolto dalle scienze la tradizione democratica illuministica ha insistito in modo particolare sulla collaborazione virtuosa tra il lavoro degli scienziati e quello intellettuale civile dei cittadini da John Stuart Mill a John Dewey ecco non si deve ovviamente coltivare una mitizzazione della scienza e dei suoi modi di conversazione anzi l'attuale situazione della pandemia e il discorso pubblico degli scienziati ci hanno mostrato tutti i limiti e non necessariamente un male aver mostrato questi limiti delle pratiche della scienza e del discorso pubblico che si genera da essa e tuttavia mi chiedo e chiedo soprattutto a Pier Giorgio se invece di una collaborazione fra il lavoro degli scienziati e quello dei cittadini maturi e riflessivi non si debba auspicare un lavoro riflessivo comune ovvero l'idea che ci sia una piena continuità fra comprensione scientifica del mondo e comprensione morale su questo punto non posso argomentare ulteriormente e chiudo vorrei sollecitarlo ovvero vorrei sollecitarlo sull'idea che di un rischio potenziale contenuto in un'affermazione di autonomia dell'etica ovvero la sottodeterminazione di quanto la comprensione naturalistica delle nostre vite può mostrarci ovvero per usare una nozione cara a Pier Giorgio la struttura la strutturale vulnerabilità delle nostre vite cui neppure la ragione sembra poter porre rimedio in modo definitivo grazie grazie ho finito allora mi tolgo la parola riprendi l'altro ruolo però grazie mi tolgo la parola credo di essere rimasto nei tempi e quindi forse mi posso anche complimentare con me stesso e do la parola alla nostra ultima relatrice Vera Tripodi dell'Università di Torino prego Vera anche per te circa 15 minuti allora buon pomeriggio a tutte a tutti grazie per l'invito sono molto contenta di presentare il libro di Pier Giorgio Donatelli in questo contesto la Sapienza insomma è l'università in cui mi sono formata quindi un ritorno a casa anche appunto sebbene virtuale anche se poi se ho scoperto che l'università ha cambiato nome non è più la Sapienza ma è Sapienza quindi probabilmente si tratta di due entità diverse insomma non so comunque allora come appunto ho promesso all'autore dato che ho già avuto occasione di presentare il libro a fine novembre però in un contesto diverso per la consulta di bioetica questo pomeriggio e visto che voi insomma chi mi ha preceduto ha detto già delle cose interessantissime insomma cruciali questo pomeriggio appunto mi concentrerò su alcune questioni che non sono riuscita a esplicitare la scorsa volta e su cui appunto sono felice di poter di poter tornare e quindi mi concentrerò più che altro sulle suggestioni insomma che il libro mi ha suscitato mi ha regalato e la mia attenzione sarà posta come è stato nel caso del professor Fabris su quella parte del libro che affronta questioni di etica applicata vale a dire gli ultimi due capitoli nello specifico la mia attenzione sarà posta su le questioni che riguardano l'etica della tecnologia digitale intelligenza e della robotica sociale schematizzo un po' giusto diciamo ai fini della discussione magari per chi ancora non ha letto il libro e magari appunto ha bisogno di avere un'idea un po' più chiara come appunto Donatelli ci spiega soprattutto nell'ultimo capitolo si tratta di un nuovo campo dell'etica che però si inserisce pienamente nella tradizione della bioetica come appunto sottolinea Donatelli la rilevanza di questo campo dell'etica si colloca Donatelli scrive su due livelli il primo livello è quello che riguarda la questione di quali dovrebbero essere i criteri che dovrebbero in qualche modo orientare chi progetta gli artefatti ingegneristici e anche chi ha il compito in qualche modo di controllare politicamente questo processo di progettazione e questo livello dice appunto Donatelli chiama in causa principi su cui la tradizione della bioetica si è largamente concentrata e quindi il principio di autonomia la beneficenza la prevenzione del danno il secondo livello scrive Donatelli riguarda invece l'impatto che queste tecnologie hanno rispetto al progetto umanistico di cui ci parlava la professoressa Crispini all'inizio è bella dire rispetto alla questione quindi della nostra capacità di dare forma alla nostra vita in modo libero in modo creativo e dunque ha a che fare con la questione appunto della libertà degli esseri umani e delle persone di dare forma alla propria vita secondo i propri ideali le proprie inclinazioni diciamo i propri progetti ora quindi questo secondo livello su cui io porrò l'attenzione riguarda appunto il rapporto tra le nuove tecnologie e la possibilità stessa appunto del progetto umanistico e rispetto a questo secondo livello la domanda che appunto da porsi appunto come sottolinea Donatelli è se le tecnologie ci permettono o meno davvero di sviluppare di migliorare le nostre capacità le nostre potenzialità capacità nel senso di NUSBAM insomma ora spiega Donatelli naturalmente quando si parla di tecnologie di questo tipo c'è sempre un'abbivalenza da un lato la tecnologia digitale e intelligente sembra essere una minaccia al progetto umanistico dell'etica pensiamo alla profilazione lui fa molti esempi naturalmente cioè il fatto di essere in qualche modo classificati relegati a delle categorie a dei profili che poi ci spingono in qualche modo a riprodurre le stesse azioni le stesse scelte e dall'altro invece queste tecnologie sembrano però rendere possibili altre forme di collaborazione di solidarietà di progetti anche politici Donatelli per esempio cita il fenomeno del Me Too oppure del Ocify Wall Street e altri altri casi quando appunto proprio nell'ultima parte del libro Donatelli si concentra sulla robotica sociale ci dice appunto che la robotica sociale in caso nello specifico la robotica affettiva o di cura che è utilizzata per esempio nell'assistenza delle persone anziane questo tipo appunto di tecnologia sollevano altre questioni cioè non c'è solo tanto questo tipo di ambivalenza descritta ma c'è anche una questione che ha a che fare dice Donatelli con la trasparenza e l'opacità insomma di alcune di questi diciamo artefatti questo perché scrive Donatelli l'utilizzo di questi robot può in qualche modo indurci scrive Donatelli illudere diciamo le persone che hanno a che fare che interagiscono con questi questi robot che quello che stanno ricevendo è effettivamente cito appunto attenzione cura affetto e scrive Donatelli questa è una forma in qualche modo di inganno di manipolazione che tra l'altro appunto e quindi emerge con chiarezza la questione della trasparenza una delle questioni che è proprio indicata questa questione come ci ricorda Donatelli dalle linee guida dell'Unione Europea e quindi e qui la questione della trasparenza gioca un ruolo molto importante perché perché nella fase diciamo della progettazione i programmatori le programmatrici dovrebbero essere diciamo tenuti a rendere facile la comprensione per chi utilizza diciamo questi dispositivi questi robot che le macchine sono delle macchine e quindi che stanno ricevendo assistenza pur effetto non da una persona in carne e ossa ma da una macchina ora questo per diciamo uno schema generale ho sentitizzato molto diciamo e me ne scuso mi ha molto e quindi vorrei concentrare l'attenzione su questo aspetto mi ha molto diciamo così interessato la questione dell'inganno dell'autoinganno e l'utilizzo di tecnologie di questo tipo e queste memorate questo perché in gioco è diffusa la pratica molto più che in Europa di affidare le persone anziane che sono appunto ospiti di case di riposo all'assistenza di robot e ho detto già diciamo molti studi al riguardo hanno testimoniato che preferiscono il rapporto con i robot che forniscono loro assistenza al rapporto con diciamo con persone con assistenti assistente in carne in carne d'ossa perché perché non si si sentono come dire meno giudicati perché non si sentono maggiormente al loro agio perché non si sentono in una condizione di subordinazione assistenziale e non avvettono meno diciamo il disagio legato a una forma diciamo di umiliazione che una persona può avere quando appunto si trova in una situazione diciamo di malattia insomma di difficoltà e lo stesso succede anche in forma sperimentale anche in Italia per esempio ci sono degli istituti e degli ospedali in cui si sono già iniziate sperimentazioni di questo tipo in Italia dove ci sono già robot anche in Italia che aiutano appunto gli anziani per esempio a non sentirsi soli gli aiutano a telefonare a leggere le notizie a ricordare gli orari dei pasti i farmaci che devono prendere e lo stesso è già successo per esempio con gli animali anche robot usati nell'ambito della medicina dell'assistenza per la cura e la compagnia delle persone disabili o di persone che hanno diciamo particolari malattie insomma per cui hanno bisogno di aiuto e uno potrebbe dire che tutto questo il fatto di simpatizzare di entrare diciamo di di affezionarsi a questi a questi dispositivi a questi robot potrebbe a che fare magari con la nostra tendenza ad antropomorfizzare diciamo le macchine la domanda però che quindi impongo e vorrei appunto a Donatelli è questa considerando diciamo questi casi no e per ritornare alla questione dell'inganno dovremmo considerare come moralmente diciamo non apprezzabile l'idea di produrre dei robot in questi casi robot appunto sociali che ci incoraggiano a considerare realtà ciò che invece in qualche modo è solo un'illusione no questa forma di illusione no che nel rapporto diciamo con il robot che ti ti dà come dire di compagnia con il robot che appunto invece ti dà assistenza sembra essere il tipo di illusione di inganno diciamo che nasce sembra a mio avviso non essere molto distante da ciò che accade dall'illusione l'inganno che abbiamo per esempio quando vediamo un film o per esempio quando leggiamo un romanzo vale a dire simpatizziamo per un personaggio piangiamo per le sventure del protagonista dei miserabili ci innamoriamo di un personaggio in tutti questi casi cioè nei casi per esempio di un film o della lettura appunto di un libro non diremmo che queste forme di inganno di illusione sono una forma di impedimento per lo sviluppo umano un ostacolo diciamo neanche alla nostra interazione un ostacolo diciamo allo sviluppo delle nostre capacità un altro esempio che ha a che fare secondo me sempre con la questione dell'inganno della manipolazione è il caso della robotica sessuale di cui oggi un po' si parla no? cioè vale a dire qui la questione dell'autoinganno emerge con una maggior forza perché le persone che scelgono per esempio di avere rapporti sessuali con una macchina scelgono almeno nella maggior parte dei casi poi ci possono essere case in cui così non è di avere cioè scelgono consapevolmente di autoingannarsi ora noi ad oggi non sappiamo se i robot del sesso potranno essere un oggetto veramente desiderabile in futuro e prenderanno il posto diciamo degli esseri umani o potranno anche competere con gli esseri umani nell'ambito della sessualità però è vero che uno potrebbe appunto pensare che appunto quello che avviene è che trattano appunto una macchina che ha un robot che ha le sembianze umane come appunto se fosse un loro un loro partner appunto però si potrebbe dire che in realtà chi produce robot del sesso non ha alcuna intenzione di autoingannarci o di ingannarci cioè il sex robot non viene presentato come un essere umano piuttosto chi si autoinganna e chi acquista il sex robot e che pur sabendo di avere di fronte una macchina lo tratta come se fosse un partner mi sono insomma si vengono in mente anche alcuni film al riguardo dove non c'è proprio un sex robot ma c'è un dispositivo un software come il film Hair tradotto in italiano con lei adesso mi sfugge il titolo il nome del regista e quindi chiederei appunto a Donatelli come commenterebbe questi casi cioè ci sembrano appunto ci sono casi in cui l'autoinganno non pare essere moralmente discutibile rispetto proprio allo sviluppo delle nostre capacità delle nostre appunto potenzialità e che sia discutibile che appunto si debba riservare sempre all'autoinganno una condanna di tipo morale quando appunto abbiamo a che fare con dispositivi di questo tipo anzi c'è anche una tradizione che dice appunto che in qualche modo ci sono rispetto alla questione dell'autoinganno anche delle ragioni evolutive nell'autoinganno ci sia anche una sorta di utilità sociale di utilità personale ci sia anche un valore come dire strumentale dell'autoinganno che non sia diciamo sempre giustificato giudicarlo negativamente da un punto di vista morale quindi questa è la prima questione l'altra questione che è legata sempre a lo sviluppo appunto il progetto umanistico e la tecnologia è invece legata alla questione dell'emancipazione femminile che è un tema diciamo a me molto caro ma come sappiamo anche la Donatelli cioè lo sviluppo tecnologico ha in qualche modo giocato e può giocare a mio avviso un ruolo importante rispetto al modo di considerare anche i ruoli femminili e il corpo appunto delle donne banalmente un esempio che molte femministe fanno è la lavatrice ad esempio che è appunto un altro fatto ingegneristico è stato uno strumento di liberazione in parte di emancipazione femminile cioè una tecnologia che per esempio ha sgravato le donne da un'attività molto faticosa impegnativa come appunto quella di fare il bucato concedendo alle donne più tempo da dedicare ad altre attività extra domestiche poi ha spinto molti uomini anche a capire che poi non è così difficile insomma attivare una lavatrice in futuro appunto come sappiamo la tecnica ci permetterà di modificare radicalmente anche i modi in cui noi convenzionalmente ci riproduciamo abbiamo partecipato insieme a un bellissimo convegno avvenuto alla fine di novembre su come sarà la riproduzione nel 2050 e lì molti diciamo scienziati come per esempio Carlo Bulletti ci diceva che l'utero artificiale non è una realtà così distante nel tempo e l'utero artificiale a cui appunto si sta lavorando è considerato una nuova frontiera della riproduzione umana un'invenzione tecnologica che secondo alcuni appunto potrà essere una grande opportunità per le donne diminuire per esempio le costrizioni fisiche che una gravidanza comporta si potrebbe utilizzare l'utero artificiale in caso di una gravidanza riscosa oppure come trattamento all'infertilità al trapianto d'utero alla gestazione per altri quindi gli uteri artificiali anche qui una tecnologia che potrebbe avere una funzione anche rispetto all'emancipazione e alla liberazione femminile perché potrebbe alcuni diciamo il dibattito è abbastanza acceso su questo diciamo ci sono posizioni molto diverse però uno potrebbe dire che gli uteri artificiali potrebbero liberare diciamo le donne da certi modelli anche patriarcali liberare per esempio le donne libere dai loro doveri riproduttivi le donne potrebbero perseguire uno potrebbe dire con maggiore libertà i loro interessi quindi i loro desideri e quindi sarebbe assolutamente in linea anche con il progetto umanistico questo e rispetto anche alla questione diciamo tecnologia progetto umanistico emancipazione femminile liberazione ritornano anche il caso dei robot perché e la questione della prostituzione dicono che e molte dicono che i sex robot potranno per esempio essere in futuro un'alternativa al sesso a pagamento anche che sarebbe addirittura auspicabile che il sesso a pagamento venisse sostituito da robot quindi l'introduzione anche qui di una nuova tecnologia come appunto quella della robotica sessuale può diventare uno strumento di riduzione di una forma di mercificazione del corpo della donna appunto della prostituzione anche se qui naturalmente come nel caso precedente c'è molto disaccordo perché alcuni vedono invece nella diffusione dei sex robot come una seria minaccia per le donne perché il loro diciamo diffusione potrebbe addirittura aumentare la violenza nei confronti delle donne perché appunto ci si abitano ad avere una relazione sessuale con un oggetto e quindi anche a fargli violenza insomma eccetera eccetera quindi ecco le questioni su cui volevo porre l'attenzione al professor Donatelli sono appunto la questione dell'autoinganno e dell'inganno e la questione appunto della tecnologia e l'emancipazione e la liberazione femminile grazie allora come dice Mario sono riuscita a trovare difficile parlare per ultimo insomma la prossima volta si comincia dalla fine allora come dire criterio di giustizia poi faremo a sorte l'ha avuto ancora dopo allora grazie Vera allora chiudiamo quindi il giro di interventi e lascio la parola subito anche a Giorgio Donatelli per le sue i suoi commenti le sue repliche allora grazie e tra l'altro siamo anche avanti casomai ci prendiamo dei minuti che forse se servono ecco che può essere anche l'utilità di essere al computer anziché in aula con orari più rigidi allora naturalmente adesso io ringrazio moltissimo le amiche gli amici le colleghi i colleghi e Simone che poi si è preso carico il professor Pollo di organizzare questa discussione critica e vi ringrazio molto perché adesso io ho preso moltissimi appunti ho anche fatto di sono a casa quindi uno ha più libertà ho anche fatto dei colori ho colorato anche diciamo questi appunti quindi sono delle belle pagine che adesso mi terrò sono piene quindi adesso io evidentemente faccio solo delle considerazioni molto superficiali e spero che poi possiamo continuare questa conversazione perché sono tutte cose molto utili e che mi sono utili nel senso che io poi questo è un libro di introduzione come ha detto poi bene anche Simone sono d'accordo di introduzione a un metodo di riflessione dell'etica quindi non sono di traduzione dell'etica ma è anche effettivamente come avete fatto osservare tutti un libro dove io torno su cose che su cui sto lavorando ormai da decenni e con degli aggiustamenti e anche delle novità e per me le cose che poi avete toccato o almeno alcune sono un campo di ricerca aperto su cui poi vorrò se riuscirò tornare allora qualche osservazione ringraziandovi veramente moltissimo con la serietà con cui diciamo avete riassunto e discusso le mie posizioni quindi veramente sono molto grato allora comincio seguo l'ordine con la professoressa Crispini la quale quindi grazie Ines ha messo in luce come dire l'impianto che forse a cui io tengo che forse non è ovvio non lo so diciamo è ispirato effettivamente da un atteggiamento pluralistico che può anche essere criticato ma a cui io tengo e vale a dire di tenere insieme diverse prospettive di metodo come diceva Simone Pollo vale a dire di considerare l'etica sia come una tradizione filosofica sia come una ricerca teorica e la ricerca teorica vedere che la filosofia è stata quella che l'ha fatta meglio e ora bisogna assolutamente rivolgersi anche alle scienze con questo sviluppo grandissimo di lavoro di ricerca chiaramente su basi sperimentali e poi dentro la tradizione filosofica effettivamente provare a tenere insieme non tutte chiaramente ci sono tradizioni pochissimo toccate e le potrei dire anche quali ma insomma tenere insieme molto diciamo di questo bagaglio anche in parte eterogeneo di come l'etica viene presentata nella tradizione filosofica con delle scelte e quindi poi che sono emerse anche nella presentazione di Ines Crispini nel senso che questo è un libro che punta molto sull'importanza di una prospettiva normativa ci torno perché la cosa diciamo è sollevata da vari interventi di Mario e così via e anche di Simone e di Simone e quindi però di evidenziare quelle prospettive che sono dichiaratamente non normative nell'antichità e nella modernità e quindi poi di dare anche un ruolo anche se chiaramente sono poche pagine un gigante dell'ottocento come è Hegel e diciamo io continuo ad avere la convinzione che lì succede qualcosa di importante che fa parte poi della tradizione tedesca poi qua innanzitutto diciamo Adriano Fabri se forse se mi permettete il più esperto ma insomma tutti la conosciamo dove a mio modo di vedere c'è qualcosa di fondamentale che succede ma allo stesso tempo se uno prova a fare una ricostituzione dell'etica dal punto di vista di quel tipo di tradizione lì che è la tradizione diciamo diciamo Hegel ma naturalmente arriva nel novecento anche con sto facendo dei paragoni un momento audaci fino anche a Heidecker di cui evidentemente Adelan Fabris è anche scritto dei libri tanti libri a mio modo di vedere non si può fare una ricostruzione completa sufficientemente ricca dell'etica da quel punto di vista lì nel senso che a mio modo di vedere Hegel adesso finisco subito ma sto su Crispini e quindi faccio un pochino di storia della filosofia che è implicita in questo libro ma l'avevo fatta ovviamente e alcuni di voi già avuto la gentilezza di discuterlo nella mia storia dell'etica etica sempre dai naudi diciamo dal mio punto di vista Hegel compie una rottura che è molto importante che poi viene in qualche modo ricucita nel novecento con difficoltà e compie una rottura con una lunghissima tradizione abbastanza omogenea che concepisce l'etica come un sapere pratico che ha un problema vale a dire come vivere individualmente e come società e che pone al centro il problema normativo di come si deve vivere e di come si deve giustificare diciamo la condotta e poi naturalmente anche la psicologia il carattere e così via Hegel rompe in maniera clamorosa in maniera grandiosa come è il personaggio e lì parte tutta una linea che evidentemente io poi collego anche a a un altro modo di leggere l'etica antica che è reso stato reso a noi familiare da autori come Pierre Hadot eccetera però Hegel compie un'operazione che tu devi vedere se vuoi capire il contributo di Hegel il contributo di Marx il contributo della teoria critica ma anche il contributo di grandi classici forse i due più grandi filosofi alla fine del novecento o della prima metà del novecento che sono da una parte Heidegger e dall'altra Wittgenstein che sono tutti autori dove è interessante andarli a studiare per vedere in qualche modo tutti questi da Hegel fino a questi la o marginalità o assenza dell'etica ora queste sono tutte cose implicite che stanno diciamo dietro questo libro che non ne tratta perché non è un libro di storia della filosofia ma diciamo le esplicito ora ma alcuni di voi già le conoscono bene sono la mia diciamo come dire ho nella testa una chiave di lettura della storia dell'etica della storia della filosofia a dire la verità come dire si parva l'icet ovvio data la grandezza della cosa alla luce della quale poi faccio delle scelte teoriche e le scelte sono quelle adesso mi avvio a concludere con l'intervento di Crespini ringraziandola molto che sono queste scelte qua di considerare l'etica diciamo come qualcosa che deve tenere un po' insieme questi diversi contributi quindi tradizione filosofica nella tradizione filosofica perlomeno due grossi modelli quello normativo quello senza normatività e poi come ricerca teorica che i filosofi hanno fatto per tanti secoli benissimo e poi a partire da Hume o non so forse da Hobbes quando volete voi da Descartes persino comincia la cosa a mescolarsi con approccio squisitamente scientifico legato alla scienza moderna Ines poi appunto mette in luce questo tipo di problemi e lo lega anche a quello che io chiamo progetto umanistico e forse però a questo punto Ines lo lascio lì fermo se mi permetti e lo uso per poi interloquire un momento con Adriano Fabris dopo ecco quindi perché tu l'hai toccato ma quindi lascerei un po' qui questo primo quadro il secondo quadro è quello di Mario anche qua provo a essere brevissimo in modo che poi eventualmente c'è anche un piccolo nuovo giro e le altre persone che sono presenti possono dire qualcosa Allora naturalmente adesso Mario ha fatto un intervento un po' complicato permettimi perché tu in realtà hai discusso autori che io non discuto quindi chiaramente adesso è difficile per me fare una discussione di questi autori a luce del libro che non ne parla naturalmente però i temi ci sono e mi sembra che però qui emerge un'altra questione fammela dire in maniera un po' ampia e quindi non specifica nel senso che Mario ha fatto una serie di osservazioni che poi condivido cioè un qualche superamento della modalità classica di opposizione platonica tra ragioni e passioni evidentemente quel tipo di distinzioni lì in qualche modo così nette che adesso dal punto di vista scientifico non tengono più e poi ha giustamente notato che non sono molto interessato a un certo tipo di metafisica dell'etica in particolare del tema su cui lui è evidentemente un grande esperto che è quello del libero arbitrio e quindi tutta una serie di osservazioni che poi condivido però poi Mario diciamo spinge verso l'idea e lo hai un po' detto che secondo me invece si può criticare Mario cioè tu spingi verso l'idea che considerando un certo tipo di letteratura che poi finisce con l'essere appunto situazionista che finisce con mettere in luce la come dire forse l'illusione del potere causale della mente come l'abbiamo concepita in termini tradizionali questo tipo di letteratura scientifica in qualche modo dovrebbe forzare l'abbandono di una concezione che fondamentalmente io sposo in questo libro centrata sull'idea che c'è la normatività e ci sono diciamo teorie delle ragioni poi ci sono anche pratiche questo tipo diciamo di forzatura a mio modo di vedere non funziona ecco nel senso che certamente il lavoro scientifico modifica continuamente e gradualmente con i suoi modi diciamo il modo in cui noi pensiamo a noi stessi come agenti che rispondono a ragioni e rispondono in realtà anche al linguaggio a concetti all'immaginazione ma diciamo che si tratterà fino a che va avanti perché poi anche questa si modifica anche per effetti che non hanno a che fare con la nostra conoscenza del mondo scientifica intellettuale razionale immaginativa con effetti che a un certo punto come diceva Simone scoprirà anche a un certo punto ogni forma di vita intelligente sul cosmo fra un tot diciamo di sviluppo e di contrazione e così via va bene senza andare avanti di migliaia di miliardi anche stando vicini a un certo punto ci sarà probabilmente una qualche tipo di evoluzione scomparsa del sistema solare poniamo quindi è chiaro che è tutto limitato ma quello che voglio dire senza perdere il filo al professor De Caro è che diciamo l'etica alla fine è una forma di pensiero è una forma di vita influenzata da considerazioni di diverso tipo e scientifiche e queste considerazioni scientifiche non possono dall'esterno forzare quella forma di vita la possono influenzare ma non possono forzare scelte di concetti anziché altri e se lo forzano si tratterà sempre di quella forma di vita che ha acquisito quei concetti dal suo interno cioè l'etica è un modo di abitare il mondo questa idea della dimora veniva fuori nell'intervento di Crispini e evidentemente io ci tengo l'etica che è un'espressione che può essere legata a diverse linee culturali l'etica è un modo di abitare il mondo ed è un modo di abitare il mondo anche attraverso quelle cose che noi tradizionalmente diciamo attribuiamo alla ragione in quel modo di abitare il mondo c'è anche la conoscenza scientifica che può modificare il peso che diamo ad alcuni concetti lo può modificare radicalmente ma questa modificazione finché va avanti qualcosa che assomiglia alla forma di vita etica è una modificazione che io voglio sempre leggere dall'interno della forma di vita etica che è pratiche diciamo condotte una forma di abitazione di cui fa parte anche chiaramente un aspetto prettamente razionale quindi diciamo Mario adesso forse sono stato un po' confuso ma mi sembrava molto chiaro perché questo tipo di conversazione l'abbiamo già avuta quindi forse mi sembrava molto chiaro come tu a un certo punto propendessi per l'idea e che certamente io non sposo nel libro quindi qua c'è una differenza tra noi due che alcune elaborazioni scientifiche abbiano il potere di forzare l'uso di certi concetti io invece penso che l'etica sia finché dura e ora aggiungo subito un altro tema e vado a Adriano Fabris una forma di vita che va compresa dall'interno comprendendo la forma di vita dall'interno emergono le cose che ho detto ma emerge anche quello che io chiamo progetto umanistico dell'etica quindi questo se volete è anche un modo anche di continuare a discutere adesso qui avevo scritte molte altre cose Mario quindi scusami che le lascio in disparte le riprendiamo un altro momento potrebbe essere anche un modo però di continuare a discutere con Mario De Caro vale a dire che quello che ho provato a fare emerge in questo libro come ha detto Simone è teorico non è storico ma appunto come vi ho esplicitato e come sapete c'è dietro delle scelte diciamo di storia dell'etica anche della cultura metto al centro il progetto umanistico allora il progetto umanistico è quello che io chiamo progetto umanistico è una cosa molto recente che provo a raccontare in maniera descrittiva che voglio difendere sul piano normativo e quindi è una come dire un modo di pensarci e quindi chiudo con Mario De Caro i modi in cui ci pensiamo cambiano sotto l'effetto di molte cose anche della scienza benissimo quello che chiudo con Mario cambiano ma l'idea che ci sia un punto di vista esterno quello della scienza che forza il cambiamento non vorrei leggerlo in quel modo allora che cos'è il progetto umanistico se volete è quello che si chiama modernità che è un termine che però che si può anche usare ma che io e che forse anche uso ma quindi è l'idea di pensare alla vita individuale come qualcosa che non è puramente passivizzata dalle circostanze che ci capitano ma che si può pensare come un'occasione la vita per fare cose su se stessi con libertà con creatività certamente cercando la felicità perché una vita solo di dolore di sofferenza è invivibile per qualsiasi persona questa idea qui è un'idea diciamo in termini storico culturali usando delle parole di portata gigantesca quindi con qualche vergogna è un'idea illuministica e romantica e chiaramente è anche un'idea democratica perché l'idea del progetto umanistico è l'idea di mettere in condizioni le persone come qualità della vita e assetto istituzionale e controllo dell'ambiente anche sociale e politico per poter fare qualcosa delle loro vite l'idea di progetto umanistico è recente la sua realizzazione per grandi numeri è recentissima e fondamentalmente è fondamentalmente è dopo la seconda guerra mondiale sono questi decenni se vogliamo essere ancora più precisi e sloganistici di progetti social democratici realizzati fondamentalmente in Europa se volete andare nella tecnicità della storia dei partiti politici dai partiti popolari della democrazia cristiana e dei partiti socialisti i quali hanno realizzato dei progetti social democratici con tutta una serie diciamo di interpretazioni che possiamo dare che avevano in vista quello che io diciamo chiamo progetto umanistico consentire al numero maggiore di persone la possibilità le risorse che sono materiali culturali e biografiche di fare qualcosa della propria vita nell'intimità nella cultura nell'affettività nei rapporti nelle relazioni benissimo questo è quello che io chiamo progetto umanistico e che difendo questa idea qui che quindi ha degli eroi che sono stati citati degli antessignani che diciamo entrano nel libro ma che per me sono importanti ma non sono chiaramente centrali come Hobbes alla luce del quale io leggo un po' tutta la storia dell'etica moderna con una scelta che faccio evidentemente ma poi chiaramente gli eroi saranno evidentemente mille e così via e poi e poi e poi introduco ecco perché è la prima volta che lo introduco in maniera così strutturale questo grande personaggio che è John Dewey che sta dall'altra parte evidentemente dell'oceano quindi ci rappresenta l'eco diciamo statunitense di questo progetto umanistico che nella mia testa è fondamentalmente questo questa cosa preziosissima che dobbiamo ottenerci però ora sono nella nella normatività se volete politica che è l'Europa che è l'Unione anche europea benissimo questo progetto umanistico io provo diciamo a utilizzarlo in una serie di situazioni e Adriano come sempre perché sto parlando troppo quindi vado più rapidamente quindi chiedo scusa devo andare più rapidamente mette in luce e quindi mi è sempre molto utile parlare con te Adriano mette in luce delle difficoltà benissimo naturalmente ho già detto che poi Fabrice ha tutta la sua competenza è anche uno che ha scritto libri su Heidegger e quindi è ovvio che mi risuonano nelle tue parole una problematizzazione sull'uso del concetto stesso di umanesimo di umanesimo liberale democratico che sono i due modi in cui io diciamo chioso qualifico la parola umanesimo umanesimo liberale che è quello che io rintraccio in Goethe e Emile e democratico che rintraccio in o anche Humboldt e Ghete e invece quello democratico che non è può essere un po' di Ghete ma fondamentalmente invece è chiaramente di Mil e di Dui questo umanesimo io lo metto a contatto con queste nuove situazioni adesso naturalmente ho parlato troppo quindi tutte le domande più difficili di Adriano non provo neanche a rispondere ma l'idea è quella diciamo diciamo non è la tua posizione quindi di nuovo come con Mario c'è una differenza tra noi e benissimo e va avanti il nostro dibattito quindi diciamo quello che io vedo è come chance con le tecnologie digitali stiamo a questo perché tu hai introdotto tanti temi è di possibile è di educarci di elaborare una relazione con tecnologie che possono essere un'occasione di espansione del progetto umanistico ma anche di gravi perdite e di messa a repentaglio molto grave dov'è la messa a repentaglio e vado già anche verso i temi che saranno poi di vera tripodi la messa a repentaglio è uso una parola orrida che usano quelli del management l'outsourcing di capacità umane in cui tu deleghi il triage al robot che in alcune condizioni di definizione di criteri del triage lo fa meglio di te essere umano cioè medico professionista deleghi la cura di cui parlava vera a un robot e tutte le cose che ha detto vera io ho tagliato un po' troppo rapidamente la chiusura del libro sono d'accordo con te non c'è dubbio che si può avere un rapporto di cura con un robot che è migliore con l'essere umano perché la cura è tipicamente passivizzante e anche nella mia esperienza personale io non amo la passivizzazione e ogni volta anche ieri mattina ma niente di grave che devo fare esami devo stare in ospedale io non amo gli ospedali naturalmente questa è la mia inclinazione personale ho degli amici dei colleghi che vanno in ospedale più tranquilli di me benissimo io quindi personalmente posso capire molto bene Vera il discorso che hai detto che ci può essere una situazione in cui è meglio essere come dire serviti che ti danno le pastiglie che da un robottino che si muove magari un po' umanoide gradevole anziché una persona che come spesso succede negli ospedali ti danno del tu se sei un po' vecchiotto eccetera o se hai un colore che non è perfettamente quello che loro immaginano come italiano diciamole queste cose che sono orribili ti danno del tu ti subordinano e perdi tutto quello che sei stato due secondi prima benissimo quindi il robot è meglio però non c'è dubbio che se noi facciamo outsourcing e deleghiamo e vicariamo aree importanti ma anche complicate spinose diciamo di esperienza morale di responsabilità c'è un rischio e quindi e questo è una linea che sviluppo nella mia conversazione ora con Adriano è anche vera così faccio un po' più rapidamente e il rischio è perdita di competenza e di capacità perché poi l'agente artificiale avrà un modulo di gestione che tu potresti dimenticarti perché poi a un certo punto viene sviluppato dagli sviluppatori dai programmatori dall'industria che ci sono dietro e noi pian pianino ci perdiamo pezzi questa cosa qui naturalmente può anche essere banale può non essere grave e quindi Platone contro la scrittura è chiaro che se cominciamo a avere la scrittura l'uso della memoria diventerà molto meno importante per noi quindi sono tutte cose che sono state dette nella storia dell'umanità e quindi però c'è qualche problema ecco ci sono dei problemi un altro problema che io vedo sempre con Adriano è questa e tu lo hai citato tutte queste cose che hai detto appunto perché mi hai detto il problema dell'autenticità della vita benissimo Adriano dal mio punto di vista è la possibilità di stabilire come dire di verificare le condizioni del progetto umanistico con queste nuove tecnologie un altro problema che vedo il primo ho detto è l'outsourcing va bene il secondo problema è la superstizione anche qua faccio un slogan chiaramente di temi che poi andiamo avanti con questi convegni no perché sono tutte cose all'ordine del giorno con Ines Crippidi abbiamo appena fondato questa società quindi invito tutti poi a qualche convegno che dobbiamo fare sulla etica dell'intelligenza artificiale io vedo una diciamo una grande di nuovo fascinazione superstiziosa verso il non umano quindi non so se va nella tua direzione Adriano o va nella mia però vedo una grande nascita di cose che sono interessanti c'è qui Simone che ci presiede tutto il tema dell'intelligenza delle piante che sono cose tecniche interessanti come dire non dare per scontato l'ovvia centralità degli esseri umani quindi è tutto fondamentale ma vedo anche una qualche fascinazione superstiziosa il transumanesimo c'è tanta fascinazione superstiziosa il superamento dell'umano è molto superstizioso c'è una carica di superstizione c'è un travaso di antiche conoscenze che sono quelle spirituali e religiose in questa roba qui c'è un travaso di quel tipo di interesse religioso lì e questo io penso che vittestagnanamente non va bene ecco non va bene quindi diciamo che allora passo a chiudo allora chiudo con Simone quindi ancora una parola con Vera Vera naturalmente ha fatto un bellissimo intervento che dobbiamo riprendere un altro contesto perché adesso quello che hai detto è molto interessante ho già detto sulla robotica sociale tu hai introdotto quella sessuale lasciamo stare l'utero artificiale che diventa ancora più complesso però appunto vanno affrontati con grande attenzione allora il tema dell'illusione io sicuramente ho tagliato un po' corto un po' rapido la chiusura del libro benissimo quando ho detto potrebbe facilmente illudere tu hai già detto che ci sono situazioni in cui tu non ti illudi e ti sta bene che sia un robot sociale va bene e quindi questa cosa perfetto hai fatto il paragone con la lettura di un romanzo ecco però quello il paragone va seguito fino in fondo perché la lettura per come io naturalmente ci sono molti modi di intendere che cosa significa leggere i romanzi o vedere i film e le serie televisive come parte della vita morale delle persone è un campo anche della letteratura filosofica molto esteso è una cosa che a me interessa come sai che ho molto cuore innanzitutto perché la mia vita personale non so se ho una vita morale ma insomma certamente la mia vita personale è totalmente come dire attorcigliata attorno alla lettura continua di romanzi da quando ho cominciato che ne avevo non so dei sette anni e quindi questa è una cosa fondamentale per me ma il mio modo di interpretare questo a luce di autori che adesso non è importante che sono anche i miei autori diciamo un po' di tanti anni fa Vic Testagnani come Daimon ma anche Martha Nussbaum eccetera è che diciamo il romanzo può essere illusione e può essere realtà il romanzo che è illusione è sentimentale se volete Emma Emma Bovary di Flaubert dove il romanzo aiuta a una ulteriore perdita di contatto con la realtà di Emma ma il romanzo può essere invece un abitare un mondo immaginativo che ti pone in un diverso contatto col mondo reale e questa è una concezione realista della diciamo del romanzo che è quella che difendo analogamente queste tecnologie hanno un aspetto di illusione immaginativo di gioco che fai con queste nuove tecnologie c'è il rischio che sia un'illusione sentimentale e può essere invece un approfondimento della tua abitazione reale del mondo quindi insomma io continuo a vedere questa ambivalenza a Simone molto rapidamente con Simone si tornano un po' i temi di di Mario De Caro allora è stato detto mi sembra forse l'hai detto tu Simone ma lo voglio dire io in prima persona questo è un libro dove io in più di tutti gli altri do voce faccio parlare e lo sostengo il razionalismo benissimo quindi questa è una prima diciamo cosa che va detta ma questo mio razionalismo naturalmente è un razionalismo che qui non è detto bene perché diciamo però come per la storia dell'etica ha dietro delle opzioni teoriche l'opzione teorica mia è sempre fondamentalmente quella wittgensteiniana cioè diciamo il punto di vista nostro di abitazione nel mondo ci consente anche il punto di vista della ragione non c'è dubbio che in questo libro io uso frasiologie che non ho usato forse prima che sono che danno ad esempio molto ragione a un autore come Thomas Nagel che è un razionalista kantiano molto duro ma Nagel alla fine è a suo modo anche un wittgensteiniano quindi quello è il bacino qual è il punto e chiudo Simone il punto mio perché tu hai ricostruito bene quindi di nuovo scusami molto che non posso entrare nel dettaglio è di un pluralismo quindi non è vero che c'è un punto di vista privilegiato e alla fine sul quale tutti ci dobbiamo spostare che è il trascendimento razionale no ci sono tanti punti di vista quindi c'è certamente una nostra naturalità che possiamo spiegare secondo diverse opzioni che io diciamo accostandomi a una letteratura che ovviamente non sono come dire non frequento come altri tipi di letteratura quindi certamente tu la conosci perché ci stai lavorando da tantissimi anni che è quella evoluzionistica provo in maniera di nuovo un po' latitudinaria un po' di generosità pluralistica a mettere insieme e dire che possiamo spiegare le nostre inclinazioni secondo una spiegazione alla De Waal simpatetico diciamo darwiniana Darwin proprio oppure un po' Tomasello rivendicando diciamo una qualche tipo di specificità dell'evoluzione umana dentro l'altra evoluzione e quindi queste spiegano e quindi può darsi che ha dato un peso a Tomasello che poi tu dici devi rivederlo però io poi vorrei in questa forma di vita umana che è biologica e culturale anche che emergesse in effetti una capacità di trascendimento allora ecco questo chiudo perché è il tema poi anche che aveva sollevato e sono tanti i temi che avete sollevato quindi scusate che non riesco a riprenderli ma che aveva sollevato Ines all'inizio vale a dire che questo progetto umanistico questa mia concezione di etica è questa etica riflessiva e lo prendo poi ne faccio un lavoro anche indipendente ma l'espressione la prendo da due che mi sembrava molto ben formulata quindi mi prendo due dalla mia parte diciamo l'etica riflessiva è il bisogno della cosa anche ovvia che sappiamo tutti del distanziamento riflessivo e critico da quello che pensi però a mio modo di vedere lì diciamo seguo Peter Singer che è un razionalista che io ho sempre criticato invece in questo libro gli do uno spazio come dire che non gli ho mai dato benissimo penso che il distanziamento critico abbia anche l'aspetto di un qualche tipo di trascendimento caratteristico della ragione torniamo anche a Mario quindi adesso non ho tempo di collocare questa affermazione che sto facendo nel contesto di Mario ma l'etica dal punto di vista evoluzionistico secondo me deve vedere queste diverse capacità umane adesso c'è il tema della differenza che ha sollevato Adriano va bene l'ho scordato queste diverse capacità capacità in cui siamo molto vicini a tantissimi animali a partire dagli animali che uno ha in casa di compagnia capacità che effettivamente dobbiamo guardare i nostri parenti più prossimi i grandi antropoidi e capacità che in particolare alcuni umani hanno manifestato in maniera splendida che sono queste straordinarie capacità di fare andare avanti la scienza la matematica la musica la letteratura e lì ci devi mettere Einstein ci devi mettere Planck ci devi mettere Flaubert ci devi mettere Nabokov ci devi mettere Mozart Beethoven e quindi senza nessun culto degli eroi una capacità della ragione dell'immaginazione che non è di tutti umani ma è di alcuni umani di trascendere le inclinazioni e ciò che siamo inclini a credere e avvertire quel trascendimento lì secondo me è un lato fondamentale immaginativo e razionale che va rivendicato facendo una ricostruzione di che cosa è l'etica grazie a tutte a tutti grazie allora grazie per Giorgio allora siamo diciamo un po' oltre il tempo che ci eravamo dati io però forse lascerei l'opportunità per un piccolo secondo giro mantenendosi diciamo senza mia repli così poi è più facile senza mia repli che vi ascolto ok allora forse possiamo seguire l'ordine inverso diciamo realizzare subito un riequilibrio di giustizia e quindi dare la parola subito a Vera grazie e no grazie per la risposta per Giorgio sì sono piacerebbe anche a me ritornare spero ci saranno altre occasioni sulla la questione appunto dell'illusione dell'inganno appunto insomma il tentativo di analogia che avevo fatto tra appunto un certo tipo di robotica di appunto i tipi di dispositivi alla letteratura e il cinema che è appunto un tema poi insomma che sta a cuore anche a me insomma soprattutto attraverso che ho analizzato attraverso gli studi di NUSBAM insomma quindi no in realtà non avevo altro da aggiungere se non rinnovare appunto cioè che mi piacerebbe insomma magari ecco si ritornasse in un'altra occasione su queste su questi temi insomma grazie la creiamo grazie per allora io seguendo l'ordine verso mi do la parola ma veramente solo per una una battuta brevissima anche perché poi appunto abbiamo occasioni di discussione anche in questo caso in presenza e non solo diciamo digitalizzate e la piccolissima osservazione che vorrei fare tu hai chiamato in causa appunto questa idea diciamo del transumanesimo come una sorta di tentazione che c'è in un certo tipo di attenzione e allargamento ecco allora diciamo che ovviamente non ho modo di argomentarlo io per carità la prospettiva del transumanesimo mi provoca l'orticaria in verità nel senso che intendevo però anche persone molto seri tipo Bostrom Savulesco eccetera no 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 ma certo no no diciamo un certo tipo di uso non guru sì sì no no un particolare uso del transumanesimo che forse in Italia è più diffuso che all'estero no io quello che e questo veramente lo enuncio solo e poi ci saranno altre occasioni per dirlo quello che in realtà a me interessa almeno nella prospettiva che io che io provo a coltivare e che ho cercato come dire su con cui ho cercato i sollecitati è proprio la creazione di un punto di vista umano cioè autenticamente umano in cui ci sia non una dissoluzione in qualche modo dell'umanità e tu hai detto giustamente che c'è una tentazione superstiziosa in determinati usi ma la creazione di un nuovo punto di vista umano profondamente secolarizzato in senso darwiniano e che quindi ha una sua specifica collocazione ma in quel nuovo tipo di contesto che ci viene dato dallo sviluppo dal progresso delle scienze naturali ecco qui posso solamente dirlo ecco poi magari in un'altra occasione ne discutiamo più dettagliatamente allora quindi andando sempre andando sempre a ritroso la parola la do a Adriano Fabris Bene grazie grazie anzitutto a Pier Giorgio per la risposta sì quello su cui poi vorrei rilanciare ma certamente non in questa sede ma più avanti in un colloquio che a me preme molto è proprio il modo in cui ci poniamo di fronte alle tecnologie e ai dispositivi dotati di intelligenze artificiali vorrei che fosse chiaro il punto Pier Giorgio fa riferimento a soprattutto a questo documento fatto dall'Ilever Group sull'intelligenza artificiale della comunità europea tra l'altro è ancora sotto rielaborazione avrebbe dovuto essere poi definitivamente rilasciato nella primavera di quest'anno causa Covid ci sono dei ritardi ma l'approccio di questo gruppo di questo di questo documento che si può facilmente scaricare dal sito da un link dell'Unione Europea è un approccio che continua a essere difensivistico e io continuo a vedere proprio nella tua impostazione questo approccio difensivistico mi spiego che cosa possiamo limitare in una condizione in cui in una situazione in cui le tecnologie digitali e dispositivi dotati di intelligenza artificiale hanno preso ormai tutta una serie di spazi che prima erano spazi umani ecco impostare le cose in questo modo cioè ancora antropocentriche per una serie di motivi che non ho possibilità qui di argomentare mi sembra retro e mi sembra profondamente non all'altezza di quelle che sono le sfide che certe situazioni ci possono ci possono presentare anche tu dici qual è il discorso della messa a repentaglio che cosa ci mettono a repentaglio delle nostre possibilità umane rilanciamo e vediamo davvero qual è il discorso non si tratta di limitare questo o quello o di utilizzare bene o male questa o quel dispositivo perché sono dispositivi tecnologici dotati e intelligenza artificiale che cosa vuol dire non sono strumenti che ne possiamo controllare il problema è proprio il margine del non controllo ed è questo il problema etico il margine del non controllo dell'agire di questi dell'agency di questi dispositivi che noi non siamo in grado allo stato attuale di definire concludo dicendo che fortunatamente questa è la grande differenza tu molto molto chiaramente hai fatto riferimento ai miei vecchi studi su Heidegger questa è la grande differenza ed è il grande gap tra le cose che pensava non solo Heidegger ma Andras e Onas e la situazione in cui ci troviamo noi adesso ed è per questo che è bello fare etica adesso perché ci possiamo davvero lasciare alle spalle anche i grandi maestri Adriano grazie anche qui però adesso creiamo brevemente un'altra rapidamente un'altra occasione perché vorrei sviluppare grazie molto è stato molto chiaro allora do subito la parola a Mario Mario De Caro no solo per dire che è uno di quei casi in cui il disaccordo è un po' asimmetrico perché Pier Giorgi è in disaccordo con me ma io non sono tanto in disaccordo con lui penso anch'io che lo spazio dell'etica non sia dipendente da quello delle scienze naturali dico solo come diceva Kant nella terza antinomia che proprio perché guardiamo agli esseri umani in modi diversi con prospettive diverse se si creano delle tensioni si crea una tensione concettuale che non si può negare non si può non affrontare quelli per esempio che dicono se non siamo liberi allora bisogna rifondare il diritto e propongono modalità di teorie della pena pericolosissime e quelli bisogna contrastarli facendo vedere che non segue logicamente da certe teorie a parte che non segue perché non segue di fatto ma anche seguisse si creerebbe una tensione concettuale non è che la visione così agentiva degli esseri umani è sempre subalterna a quella scientifica però non si credo non si possa neanche ignorare le tensioni d'altra parte non lo fa neanche per Giorgio perché in tutto il libro discute esattamente di queste cose grazie mille grazie Mario e allora alla fine la parola a Ines Ines Crespini no il microfono Ines sì il microfono sì grazie per Giorgio e la risposta di per Giorgio mi ha confermato che l'intuizione che avevo avuta diciamo l'individuazione del tema della riflessività non direi della razionalità ma la centralità dell'elemento riflessivo dell'etica mi sembrava costituire il filo conduttore di questo volume che come abbiamo visto dalla discussione che ha suscitato è effettivamente complesso complesso perché intreccia davvero ambiti e questioni e temi molto 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 variegati e tenuti insieme tenuti insieme da questo filo della riflessività di cui forse ci offre appunto una traccia proprio di lui come ha detto Pier Giorgio stesso in questa idea di passaggio dalla morale consuetudinaria alla morale riflessiva in cui diventa appunto centrale questo elemento e tendo a chiamare diciamo un po' come Korsgaard riferendomi alla Korsgaard che legge Kant più elemento di riflessività dell'etica che non di prevalenza di predominio della razionalità laddove interviene una certa distinzione tra razionalità una certa sottile confine che in fondo distingue l'esercizio della razionalità da quello della riflessività e questo confine lo vorrei dire brevemente per concludere proprio in un modo e cioè nel modo in cui si possono connettere nella riflessività del predominio diciamo così dell'orizzonte riflessivo si possono collegare per così dire la prospettiva descrittiva e la prospettiva normativa dell'etica che non sono che non costituiscono regioni così davvero separate le une dalle altre come invece si può pensare naturalmente per esempio nella direzione indicata da Kant certamente ma anche da Sidney dove queste due direzioni cioè queste due prospettive quella descrittiva e quella normativa sono divaricate per assumere poi l'aspetto appunto della divisione nella prospettiva della metaetica analitica delle origini di George Edward Moore che chiaramente insomma anche se questo anche questo aspetto questa divaricazione tra fatti e valori tra prescrittività e prescrittività può essere riguardata insomma problematicamente anche in Moore voglio dire ma questo non è la sede diciamo per inoltrarci in questo in questo discorso e però questo elemento della riflessività l'idea della prevalenza della riflessività può tenere insieme lato descrittivo e lato normativo non so normatività e desiderabilità per dirla così e chiudere su questo punto grazie Ines allora grazie Ines io credo che forse sono le cinque e quindi possiamo possiamo chiudere è stata una discussione molto bella molto ricca è come diciamo evidente è evidente questa ricchezza anche dal fatto che potremmo continuare qui ancora un altro un altro paio d'ore ma spero che ci saranno presto altre altre occasioni quindi io ringrazio ringrazio molto Ines Crespini Mario De Caro Adriano Fabris e per essere stata qui Pier Giorgio ovviamente con il quale abbiamo iniziato una discussione che continuerà quindi e vi saluto molto molto caramente vi auguro anche buone festività per quel poco che ne rimane diciamo con i DPCM in emalazione però insomma speriamo di trascorrere serenamente questi giorni Simone mi permetti saluto tutte e tutti anche poi colleghe amiche amici che sono collegati che poi non c'era il tempo perché intervenissero che poi ho visto affacciarsi quindi proprio un caro saluto e grazie Arrivederci è stato un piacere incontrarci così sia pure diciamo virtualmente a distanza però è stato un piacere parlare con voi e ascoltarvi anche da parte mia buone feste a tutti a tutti arrivederci 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 arrivederci